... Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti e un'aquila reale. Il gatto, il topo e l'elefante non manca più nessuno, anzi sì, Silvio Berlusconi. For... Eh no, non è finita. Va chiusa meglio. Forse anche lì aveva un legittimo impedimento, chissà magari l'inaugurazione di un altro zoo dove un daino dice a un altro daino, giochiamo a nascondaino? E l'altro risponde, daino. Lo scandalo della protezione civile, l'ennesima riforma della giustizia, il ritorno del nucleare e del processo Mills, ci sarebbe veramente l'imbarazzo della scelta. Ma è inutile parlare agli italiani, chi già sa le cose si fa il fegato marcio, chi non le sa non gliene frega niente di saperle. E così finisce come tutti i programmi di satira, un farsele e dirsele inutile perché tanto non cambia un c***o. Volevo dunque approfittare per anticiparvi alcuni passaggi del mio nuovo spettacolo, cui seguirà il libro che sarà l'anticipazione allo spettacolo, è il relativo DVD e poi il libro finché non prenderò per sfinimento la CIA. Berlusconi ha detto che il primo docente della scuola del pensiero liberale sarà Putin. Come Bidello si parla di Giuliano Ferrara, mentre Goldrake ha detto che ci vuole pensare ancora un po'. Qual è la cantante italiana preferita da Bin Laden, Mina? Buonasera, ben ritrovati a niente di personale, nuovo appuntamento, nel senso che è nuovo il giorno di collocazione, è il martedì, come ampiamente pubblicizzato. Solo chi ha uno stile può essere parodiato, può essere caricaturato, se volete. Sicuramente l'ospite che vi sto per presentare, fatti complimenti all'imitatore che avete appena visto, ospite di Enrico Bertolino a Globe, che era un programma di satira su Rai 3, che non è più in onda. Ubaldo Pantani, che è una maschera molto efficace, l'ospite che sto per presentarvi, quando qualcuno lo vede in una trasmissione televisiva, di solito ha uno spurgo di Bide e, diciamo così, gli lancia una macumba. Di solito la macumba si estende anche nei confronti di coloro che lo ospitano, quindi correrò volentieri il rischio, il soggetto è sottinteso, ma credo che si sia capito di chi io stia parlando. In tutto questo, ecco a voi, Marco Travaglio. Buonasera. Buonasera. Formalmente vice direttore del Fatto, da quando? Fatto quotidiano che è nato. Da ottobre. Da ottobre. Da ottobre. Quando festeggiate il nuovo compleanno? Lo festeggeremo il 24 settembre per il secondo compleanno. Come va il fatto? Benissimo. Siamo felicissimi e, nonostante che non abbiamo soldi pubblici, abbiamo un numero sufficiente di lettori e di abbonati che ci supportano, quindi, insomma, avere un pubblico è fondamentale per un giornale. Avere dei lettori è importante, noi li abbiamo trovati e grazie anche a questo inserto culturale che abbiamo lanciato, Saturno, abbiamo aumentato le vendite, il sito online va bene, ormai ha superato i 400 mila contatti unici al giorno, quindi basta autopromozione, ma insomma va bene. Avete bantirizzato altri giornali che si rivolgono a un elettorato, un elettorato di sinistra o di centrosinistra? No. Cioè, tradotto, altri giornali hanno perso copie a vostro favore oppure ha aumentato il bacino di lettura? Forse le avevano già perse prima le copie, da quello che ci risulta più che rubare lettori ad altri abbiamo acchiappato un sacco di persone che non leggevano mai o che non leggevano più o che non avevano mai letto, molti giovani che non si avvicinavano nemmeno a distanza alla stampa quotidiana, un pubblico internettaro molto cospicuo. Infatti abbiamo moltissimi abbonati online che si scaricano il giornale dalla mezzanotte della sera prima e se lo leggono, io li invidio molto, io non riesco a leggere il giornale sul computer, però pare che ci si riesca, essendo più giovani. Non legge sul computer, quanti articoli scrive mediamente in una settimana Marco Travaglio? Minimo uno al giorno, a volte capita anche due. Questo per il fatto. O media generale, visto che ha altre collaborazioni anche? Sì, io scrivo anche sull'Espresso e su A e poi faccio la rubrica d'anno zero, quindi sì, in media otto pezzi alla settimana, salvo quando per il fatto devo farne due. In tutto questo ha tempo per la vita privata? Sì. Nel senso che non voglio indagare sulla sua vita privata, dico... Non molto, ma ce l'ho. Fa vita da pendolare? Faccio vita da pendolare, cinque, quattro giorni a Roma e tre giorni a Torino dove abito. E dove la famiglia? Sì. Siamo tecnicamente in guerra con la Libia? Sì, credo di sì. Anche se non si può dire. Perché? Beh, non si può dire perché abbiamo sempre queste ipocrisie dovute al fatto che avremmo un articolo della Costituzione, l'articolo 11, che ci impedisce di risolvere le controversie internazionali con le armi. E quindi ogni volta ci inventiamo guerre umanitarie, guerre democratiche, esportazioni della democrazia, perché teoricamente non potremmo fare nessuna o quasi nessuna delle guerre che abbiamo fatto in questi anni. Almeno quelle di aggressione, come sicuramente questa e come sono state sicuramente quella contro Milosevic, contro Saddam Hussein e contro l'Afghanistan. Lei ha capito se i nostri aerei, quelli che sono decollati nella notte, è un riferimento specifico, perché mi è capitato di vedere nel cuore della notte fra domenica e lunedì un esponente dell'aeronautica militare, perché non so come altrimenti definirlo, non so il grado perché aveva una serie di alamari, stelletti. Un ufficiale. Un ufficiale, un ufficiale, il quale intervistato nottetempo al ritorno della prima missione aerea, ha detto con una frase che mi ha lasciato di stucco, sono tornati tutti i sani e saldi, dice sì sì, missione perfettamente riuscita. Domanda, scusi, ma che missione? E se io non ho capito male, ma mi pare di aver capito benissimo, la prima versione d'amblè dell'ufficiale è stato neutralizzare gli impianti degli avversari. Poi, se non ho capito bene, però questa versione data su Asponte in modo totalmente naturale è stata leggermente corretta. Sì, Berlusconi ha detto che i nostri caccia non sparano, evidentemente fanno talmente paura che appena la gente li vede, non so, si suicida o neutralizza le postazioni spontaneamente. Facciamo buh e loro evaporano, non so a che cosa servono i caccia se non a sparare. È chiaro che, come sempre avviene, ci stanno prendendo per il culo, si può dire? Tanto in diretta non la posso bippare anche se volessi, ma non volevo, quindi... Diciamo per i fondelli. Per i fondelli, sì, per i fondelli. Beh, era già successo, io ricordo quando, per non scontentare Cossutta, il governo D'Alema diceva che noi andavamo e venivamo, ma non sparavamo, insomma... Ah, lei, riferimento al Kosovo? Sì, al 99. Al 99, sì. Sì, sì, abbiamo una lunga tradizione, ma è un tipico modo di fare la guerra dicendo di non farla, di essere alleati contemporaneamente con i nostri alleati, con i nostri nemici, di trescare. Stamattina proprio abbiamo pubblicato un pezzo di uno storico, Angelo Dorsi, che ricorda questo DNA a volta gabbana che ha l'Italia soprattutto in tempi di guerra. Fin dalla prima guerra mondiale noi trescavamo sotterraneamente con il nemico, dopo il esserci alleati con i nostri tradizionali nemici, no? Abbandonando all'ultimo momento il nostro tradizionale alleato che era l'Austria e la stessa cosa poi è successa dopo l'8 settembre e ancora adesso, insomma, noi siamo... riusciamo a baciare la mano a uno e poi a bombardarlo il mese successivo, siamo fantastici. Però dicendo che ci dispiace, che siamo addolorati di bombardarlo. Non escluderei che dopo averlo bombardato torneremo a baciargli la mano o qualcos'altro, perché siamo fatti così. Qualcuno ha rilevato, devo dire più di qualcuno, che su questa vicenda, cioè la necessità o la decisione di intervenire a supporto degli alleati nel momento in cui non si capisce neanche bene quale sia l'alleanza, nel senso che Sarkozy ha detto la Nato è fuori, oggi Obama ha detto no no, la Francia e la Gran Bretagna sono d'accordo sul ruolo della Nato, però qualcuno ha rilevato come da parte dei commentatori che hanno preso in passato posizioni su vicende belliche, a cominciare dall'Iraq ovviamente l'ultima, c'è stata un'inversione, cioè coloro che si riconoscerebbero in posizioni di destra, che sono in questo momento sul fronte del... no, per carità, fermiamoci in tempo, tiriamo il freno a mano, che cosa stiamo facendo, e la sinistra, termine che è un ombrello sotto il quale rientrano tante categorie diverse, che invece si è ritrovata d'accordo sulla necessità in qualche modo di, diciamo così, ridimensionare il dittatore Gheddafi. Oggi sui giornali c'erano due interventi, uno sul Corriere della Sera, di Bernard Rilevy, filosofo francese, che rivendicava il suo ruolo di consigliere di Sarkozy per l'intervento, e su Repubblica, Daniel Convendit, che è stato un esponente del maggio francese della rivolta contro il potere costituito, che se la prendeva con i pacifisti, anche nostrani, dicendo, vendola in primis, non scendete in piazza adesso, perché non è il caso di scendere in piazza, semmai, se proprio volete scendere in piazza, dovevate scendere in piazza anche prima quando Gheddafi massacrava i civili libici. Per un lettore normale è una situazione piuttosto sana, non si capisce più qual è la destra e qual è la sinistra. Sì, da un lato la sinistra ha sempre avuto questa posizione formalistica, per cui se l'ONU è d'accordo va bene qualunque cosa decida l'ONU, anche se poi l'ONU è semplicemente l'insieme degli stati forti del Consiglio di Sicurezza, non è un'entità astratta o divina. Dall'altra parte… Scusi se l'interrompo, questa è la posizione anche istituzionale del Capo dello Stato, che ha detto, c'è la decisione dell'ONU… Esatto, anche se come giustamente scrive il generale Mini, l'ONU non ha imposto a nessuno di attaccare, ha detto se volete farlo potete farlo, ma non è che ha detto fatelo e non ha stabilito chi dovesse farlo e in che forma dovesse farlo, ha stabilito semplicemente dei paletti per chi volesse farlo. È perfettamente legittimo farlo come stiamo facendolo noi, come è legittimo anche non farlo come sta facendo la Germania. Questa storia del cercare la NATO per togliere potere a Sarkozy, come sta facendo il nostro governo, un po' penosamente, è un'altra ipocrisia perché la NATO ha dentro di sé la Turchia, per esempio, che non ci sta a questa roba qua. Quindi diciamo che è una corsa all'ipocrisia. È abbastanza divertente, infatti ho scritto il pezzo per domani sul fatto, vedere i neopacifisti di destra, perché si vede che si impegnano per sostenere la pace, però non sono allenati, si applicano ma gli mancano le parole proprio, non riescono, dicono le stesse cose che dicevano i pacifisti a proposito della guerra dell'Afghanistan e dell'Iraq. Cioè dicono ma perché attaccare questo dittatore e non tutti gli altri? C'è Ahmadinejad che è molto peggio di Gheddafi, perché non lo attacchiamo? È la stessa cosa che si diceva dal fronte pacifista a proposito di Saddam Hussein. Pure dicono ma Gheddafi è un laico rispetto al fondamentalismo islamico, rischiamo di aprire il vaso di Pandora e di trovarci un regime fondamentale. È la stessa cosa che si diceva dicendo beh teniamoli Saddam Hussein, ogni tanto lo spaventiamo, ma teniamolo come argine. I francesi vogliono il petrolio e il gas, non vogliono mica difendere la gente. È la stessa cosa che diceva i pacifisti a proposito dell'impegno americano per il petrolio, inglese eccetera in Iraq. Posso rilevare una cosa che magari riguarda soltanto me, non ho sentito nessuno né di destra né di sinistra, però quando in Ruanda nel giro di 100 giorni morirono un milione di persone a colpi di macete e di quant'altro, macete e di colpi di pistola quando erano fortunati, perché spesso si narra, veniva offerta l'opzione morire con un colpo di pistola o morire col macete, di solito si preferiva in quel caso la pistola. Ecco non mi ricordo né autorevoli esponenti di destra né di sinistra dire sarebbe il caso di intervenire militarmente per far finire il genocidio. Ma il Ruanda aveva il grave difetto di non avere petrolio evidentemente, quindi la missione umanitaria ha perso interesse lì. Purtroppo è così. Io mi accontenterei che valutata la legittimità internazionale, che sicuramente dall'ONU ci si preoccupasse del proprio interesse nazionale, io ancora non ho capito che interesse nazionale avevamo noi in Afghanistan o in Iraq, mentre capisco che ce l'avessero gli americani e gli inglesi. Chiaro che noi in Libia ce l'abbiamo l'interesse nazionale, il problema è che non abbiamo ancora capito chi vince tra Gheddafi e i ribelli e quindi noi per interesse nazionale stiamo sia con Gheddafi sia con i ribelli. Un giorno con i ribelli, un giorno con Gheddafi. Quando Bossi sta con Gheddafi Berlusconi sta con i ribelli, quando Bossi passa con i ribelli Berlusconi sta con Gheddafi. È una situazione che non rende molto credibile il nostro paese, ma insomma non è la prima volta. Diciamo che Bossi ha usato una delle sue espressioni colorite perché ha parlato di francesi citando Napoleone, ha citato gli altri, dice noi invece abbiamo sempre il solito nostro ruolo che è quello alla fine di prendercelo in quel posto, che è una fotografia piuttosto rude ma piuttosto in sintonia direi con il personaggio. Prima di scoprire le nove domande che più la riguardano direttamente, le chiedo solo una cosa, Giappone, oggi pomeriggio è arrivata la notizia, l'ha detto il Ministro Paolo Romani che a questo punto si impone la moratoria di almeno un anno prima di prendere ulteriori decisioni, sintetizzo anche qui in maniera brutale, sul fronte del nucleare. Che riflessioni ha fatto dopo quello che è successo in Giappone? Ma io come per la politica estera e anche per la politica energetica parlo da lettore più che da esperto, perché io non sono un esperto e non mi piace fare il tuttologo, credo che dell'interesse nazionale il nostro governo anche dal punto di vista dell'energia se ne fotte, altrimenti avremmo un piano energetico fatto diversi anni fa, cosa che non abbiamo, ogni tanto ci poniamo il problema che non siamo autosufficienti e che dipendiamo appunto da stati anche abbastanza discutibili come la Libia o come la Russia, sono ottime occasioni poi per farci degli affari e dei malaffari, non penso che la moratoria sul nucleare dipenda dal fatto che il nostro governo ha scoperto improvvisamente che il nucleare è insicuro, lo sapevano anche prima, dipende dal fatto che c'è un problema, a giugno ci sono i tre referendum, due dei tre referendum a Berlusconi non interessano, quello sul nucleare è quello sull'acqua pubblica, non si occupa né di acqua né di nucleare Berlusconi, tra le tante cose che fa non ha quelle, c'è però il terzo che è quello sul legittimo impedimento che potrebbe diventare un referendum pro o contro di lui proprio sul tallone d'Achille cioè sui problemi della giustizia, sui problemi suoi giudiziari e quindi prima era sicuro che spostandolo all'estate non avrebbe fatto il quorum, nel frattempo noi pagavamo 350 milioni di euro per non fare accorpare le elezioni. Adesso c'è il fatto che l'allarme nucleare ha creato interesse su questo tema e quindi il rischio per lui è che la gente vada a votare e invece di esserne felice perché sarà un grande momento di democrazia poterci finalmente pronunciare su temi così importanti come l'impunità del Presidente del Consiglio, il nucleare e l'acqua pubblica, lui vede questa cosa come il fumo negli occhi e quindi tenterà di neutralizzare uno dei tre referendum che è quello che avrebbe portato la gente al voto sugli altri due anche, per far mancare il quorum sul legittimo impedimento, sospenderà il nucleare nella speranza che la tradizionale smemoratezza degli italiani fra un anno abbia completamente dimenticato quello che è successo in Giappone e poter rilanciare un'altra volta questa storia delle centrali nucleari che non interessano tanto a lui quanto alle lobby che probabilmente lui ha messo in tasca in cambio di promesse piuttosto sostanziose poi naturalmente le centrali le vedremo fra vent'anni se va bene, se troveranno i soldi quindi... Beh, saranno quelle di quarta generazione quindi sono quelle più sicure Ma magari anche di quinta Beh, si fa in tempo quindi Sì, sì, io non essendo un esperto spero veramente che quelle di quarta e quinta generazione siano sicure perché ogni volta che siamo davanti a una generazione di centrali ci dicono che quella successiva è sicura, poi si scopre che non è vero e si aspetta la generazione successiva, speriamo che prima o poi arrivi la generazione sicura, io che non la vedo non ci credo Un argomento usato da coloro che sono diciamo nuclearisti o finonuclearisti è che il precedente referendum che pure ci fu sul nucleare fu fatto a ridosso dell'incidente di Chernobyl e quindi quello vanificò quella consultazione il senso di chiedere agli italiani se le fa volere il contrario perché non si può decidere sull'onda della suggestione emotiva e non si può decidere nel momento in cui in Russia, ma il ricordo all'epoca, se lo ricorderà anche lei, credo che abbiamo pochi anni di differenza, c'era il problema di non mangiare la lattuga a foglia larga perché c'era il deposito della nube radioattiva, argomento che potrebbe essere usato anche adesso, nel senso che votare adesso dopo l'incidente alla centrale in Giappone significa mettere l'elettore in condizioni di votare sotto suggestione quindi perché farlo in fondo? Sì, è vero, siamo tutti emozionati, però non siamo emozionati da una suggestione, siamo emozionati da un fatto reale, cioè dal fatto che il paese che tutti portavano a modello di organizzazione, di efficienza, si sta rivelando un colabrodo, se non fosse il Giappone sembrerebbe l'Italia, quelli che dovevano controllare l'efficienza e la sicurezza delle centrali erano impastati in conflitto di interesse con quelli che facevano le centrali, che gestivano le centrali, quindi non c'era un'autorità terza, è una scena tipicamente italiana, quella dei controllori e dei controllati che sono la stessa persona e in realtà se è successo in Giappone probabilmente qualcuno in Italia dice figurarsi da noi che cosa potrebbe succedere, tra l'altro siamo zona sismica, gli unici posti dove potrebbero fare le centrali, anche il Giappone? Appunto, ricordo quando già l'anno scorso ai tempi del terremoto in Abruzzo all'Aquila si disse pensate se ci fosse già qualche centrale in piedi e se ne avessero fatta qualcuna in una zona sismica, quindi sì è vero che l'emozione è forte e può influenzare, però è un'emozione che è basata su fatti che ti fanno vedere quello che poi succede, perché tra l'altro l'incidente in una centrale normale può provocare dei danni sul momento, l'incidente su una centrale nucleare crea dei danni permanenti che durano per sempre, che rovinano per sempre un territorio e che fanno morti per generazioni e generazioni, ecco in questo caso parlerei di generazioni, continuano a morire per Chernobyl. Siamo sforato? Vabbè chiedo scusa, abbiamo iniziato con la Libia, passati al Giappone e ora ci tocca l'Italia subito dopo la pubblicità, grazie. Bene, Travaglio, posso vedere con l'ausilio della regia Lombardino e tutta la squadra, bocca al lupo, grazie, mi fate vedere il mosaico così può cominciare Travaglio a chiamare i suoi numeri, che tanto scopriamo tutti, è così. Vadi. Cinque. Cinque. Chi vuole trasformarlo, Roberto Slaviano, in un santino infallibile gli vuole male, gli elogi diventano servi en comi, lei ha scritto all'epoca di Vieni via con me. Per questo l'ha bacchettato due volte, per affetto. La seconda bacchettata è un post scrittum della settimana scorsa, quando lei, in maniera molto sarcastica, è arrivato in redazione un comunicato, un'agenzia che riporta una dichiarazione di Saviano, che solidarizza con Gianni Riotta, direttore in quel momento uscente del Sole 24 Ore, e lei ha scritto, deve essere un omonimo, non può essere Saviano. Allora, le due bacchettate, soprattutto perché Saviano non poteva non usare espressioni di simpatia o amicizia per Gianni Riotta, ammesso che non fosse un suo apocrifo, diciamo. No, beh, la prima volta io avevo criticato Vieni via con me perché, diciamo, le attese che aveva suscitato non mi sembravano pari a risultato. Mi sembrava un po' deludente e quindi l'avevo scritto, mi sembrava un po' un presepietto della sinistra per bene, politically correct, con tutte le statuine al posto giusto. Cioè figurine e panini, diciamo. Esatto, infatti il pezzo si intitolava Roberto, datti una spettinata, perché mi sarebbe piaciuta una cosa un po' più sorprendente e un po' meno scontata. Ma secondo lei questo era perché Saviano è così o perché è ammaliato dallo stile di Fabio Fazio, che invece passa per essere un beltroniano, tra virgolette, quindi uno che fa le figurine panini per definizione? Beh, sicuramente somigliava molto più allo stile di Fabio che non ha lo stile di Saviano, pre vieni via con me. La seconda, insomma, dire che Riotta veniva mandato via dal Sole 24 Ore perché era un giornalista libero in viso al potere e che aveva fatto grandi battaglie antimafia. Io francamente se le ha fatte mi erano sfuggite ed erano sfuggite soprattutto alla sua redazione che infatti se ne è un po' presa per quel comunicato di Roberto Saviano. Dopodiché, Saviano è amico di Riotta, quindi è legittimo che l'abbia difeso. Ma forse faceva riferimento alle prese di posizione del presidente di Confindustria Sicilia, Lo Bello, che è quello del... non accettiamo tra i nostri iscritti coloro che accettano i ricatti da parte della mafia, si prestano a essere vittime di estorsioni, quindi complici del sistema di Cosa Nossa. Poteva essere questo? Sì, può essere, ma infatti se avessero cacciato Lo Bello avrebbe avuto ragione Saviano. Il fatto che si mandi via un direttore il cui giornale ha perso 50.000 copie in due anni credo che ci possa anche stare. Un altro numero. Tre. Tre. Mi mette tristezza quando penso a che cos'era la Lega dei Tempi d'Oro. Io nel 96 l'avevo pure votata. Ci rinfresca la memoria? Sì. Nel 94, quando Berlusconi è andato a... Faccio una doverosa precisazione per chi ci sta guardando. Molte delle domande, tutte le domande, fanno riferimento a episodi, cose che riguardano Marco Travaglio, grazie anche a questo libro che è uscito in seconda edizione, cioè il Rompiballe, un anno dopo con cinque nuovi capitoli fatti da quel bandito vero che di nome fa Claudio Sabelli Fioretti. Sì, era successo questo, che nel 94 Berlusconi era andato al potere, tra l'altro avevamo avuto un problemino al giornale perché pretendeva che il giornale diventasse quello che poi è diventato, quindi ce ne siamo andati, Montanelli e 50, ultimo dei quali io, a fondare un altro giornale che si chiamava La Voce. e io in quel momento ho fatto un giuramento, ho detto, chi lo butta giù, io lo voto. Sette mesi dopo l'ha buttato giù Bossi. E allora nel 96, quando si è tornati a votare, in una delle due... Mi pare che l'espressione che lei usa sia un pochino più colorita, o così mi pare di ricordare, cioè, che lei ha detto, insomma, il primo che io... è come se una donna dicesse, la do al primo che passa. È come la donna tradita che dice, adesso bacio il primo che passa. Sì, diciamo così, sì, certo. E io ho baciato il primo che è passato, e purtroppo era Bossi, d'altra parte l'unico che ha tirato giù Berlusconi e Bossi, e credo che se Berlusconi andrà giù sarà di nuovo a causa di Bossi, che è l'unico che lo tiene per quelle cose lì, insomma, per le palle, diciamo, da diverso tempo. Per i polsi, intendevo. Per i polsi, esatto. E quindi nel 96, in una delle due... Non mi ricordo se alla Camera o al Senato, perché tra l'altro il centrosinistra aveva presentato un impresentabile, uno dei tanti nel mio collegio, e quindi era uno che proprio non lo potevo votare, e allora pur di onorare il mio voto, da una parte... Ha splittato, cioè da una parte ha votato... Da una parte ho votato... Prodi. Il centrosinistra per Prodi, e dall'altra parte ho votato per Bossi. Ed era il periodo in cui Bossi era molto più anti-berlusconiano di me, io ero una specie di mammoletta al confronto, cioè lui proprio lo chiamava il mafioso di Arcore, gli diceva delle cose terrificanti. Sì, Berluscazza, eccetera. Berluscaiser, eccetera. Fu denunciato più volte da Berlusconi, poi quando tornarono insieme Berlusconi tolse le cause. Era il periodo in cui, se non ci ricordiamo male, ma ne dubito, anche se poi, come succede sempre in questi casi, uno legge una frase, poi quando tu la ricordi agli interessati, gli interessati ti dicono, vabbè, ma è stata estrapolata dal contesto. Il che va benissimo. Però mi ricordo che a un certo punto, se non altro con riferimento alle radici popolari della Lega, un autorevole esponente del centrosinistra ha detto ma la Lega è una costola, o il suo elettorato è una costola, dell'elettorato molto più ampio del centrosinistra. Era D'Alema? Era D'Alema. Beh, ma andò, fece di più, andò al congresso della Lega e disse Umberto, grazie di esistere. Purtroppo ci ricordiamo troppe cose. Lei, io, guardi, se non la fonda... A costola te la sei ricordata. Sì, vabbè, adesso, su D'Alema però... Vabbè, adesso poi tanto c'è una domanda che riguarda... Allora, cercare su internet le prime pagine della Padania, nell'archivio della Padania, mancano alcune prime pagine. Erano quelle che dicevano Berlusconi, rispondi, sei mafioso? E vai, giù, mangano, società, questo, quell'altro, eccetera. Io se avessi fatto una roba del genere sarei al gabbio. Invece l'ha fatto la Padania, ha fatto semplicemente sparire le prime pagine quando si sono rimessi insieme nel 99-2000. Scusi, faccio solo una piccola parentesi con riferimento al momento in cui con Montanelli siete andati via dal giornale. Montanelli ha fondato La Voce, lei lavorava alla Voce. Qualche tempo fa ho letto un articolo su un giornale comunque che si rivolge al centro-sinistra. Non le dico subito l'autore, le dico che cosa scrive, perché ho scoperto che noi tutti abbiamo un pregiudizio. Cioè, spesso giudichiamo le cose che vengono dette sulla base di chi le dice. Invece sarebbe più opportuno fermarsi la cosa. Poi se scopri che è uno che ti è simpatico sei più contento. Se ti è antipatico dice, una volta tanto l'ha detta giusta pure lui. Qualcuno che ha scritto, ma in fondo, un punto primo non capisco, dice l'autore, perché a sinistra siano innamorati del mito e del ricordo di Montanelli che nella mia memoria, scrive l'autore, era un uomo e un giornalista di destra. Potrei mettermi a fare l'elenco. Lui cita una serie di episodi della carriera di Montanelli, ma dice, e quindi io non riesco a capire perché adesso, se non perché aveva scazzato, tanto per essere brutali, con Berlusconi, è diventato un'icona della sinistra. Ma è un uomo di te, aveva fatto la guerra in Africa orientale italiana, si era pure sposato con la dodicenne, eccetera. Boh. Dice, i suoi due frutti giornalistici che sono speculari e che sono le due facce del montanellismo applicato ai posteri, in sostanza scrive l'autore dell'articolo, sono Vittorio Feltri da una parte e Marco Travaglio dall'altra, che usano gli stessi metodi, gli stessi linguaggi, lo stesso approccio, il sarcasmo misto all'invettiva, anche a un certo, diciamo, tra virgolette, disprezzo per l'interlocutore che in quel momento stanno trattando. La trova una lettura... Il pezzo è di Sansonetti sul riformista. È fortuna che, tanto so che ha una buona memoria soprattutto per le cose che la riguardano. È una lettura totalmente sballata, intanto perché non è vero che i figli di Montanelli siano il sottoscritto e Feltri, nessuno dei due figli. Montanelli non ha figli, non ha avuto figli né dal punto di vista anagrafico né dal punto di vista giornalistico. Montanelli era un unicum. Mi spiace per Sansonetti che non lo abbia conosciuto bene perché se lo avesse conosciuto bene lo saprebbe. Montanelli era un fuoriclasse assoluto. Io sono un normale giornalista. Feltri non ha mai lavorato in giornali diretti da Montanelli quindi non capisco di che sta parlando Sansonetti. Ecco, per essere molto chiaro. Ma se io provocatoriamente le dico che da direttore del giornale, il giornale nuovo intendo, quando lui lasciò il Corriere della Sera di Pierottone, io di quel giornale lì, se non un certo grigiore, anche grafico, ricordo, ma perché forse avevo cominciato questo mestiere, quindi parliamo da metà degli anni Ottanta, una strepitosa inchiesta sulla mancata ricostruzione o sulla ricostruzione avvenuta male in Irpigna firmata da Paolo Liguori. Per cui si arrabbiò tutta la democrazia cristiana, la democrazia cristiana campana, la democrazia cristiana di Avellino, i politici di Avellino e dintorni, demita in primis. Però era un giornale fondamentalmente, in questo trovo che Sansonetti non dica che però è passato per lungo tempo rivolgendosi a una parte di borghesia lombarda che non si rifletteva nel Corriere della Sera come un giornale piuttosto... Era un giornale conservatore. Conservatore, quindi abbastanza neutro, non so come meglio definirlo. No, era un giornale molto battagliero, contro la cultura dominante della sinistra negli anni 70. Era un giornale bastian contrario, era un giornale di opposizione al vento che tirava a sinistra. Montanelli è stato grande per questo, perché è riuscito a opporsi a tutti i grandi conformismi. Quando il fascismo è diventato regime e ha raggiunto il massimo del consenso, quando anche Benedetto Croce andò a portare la sua medaglietta d'oro all'altare della patria dopo la conquista dell'impero, Montanelli lascia il fascismo, tra l'altro aveva 26 anni. Quando negli anni 70 il vento tira tutto a sinistra, lui lascia il Corriere della Sera che si è messo a vento e quando negli anni 90 il vento tira tutto dalla parte di Berlusconi, lui lascia Berlusconi, cioè era un bastan contrario. Era, diciamo, come sua impostazione anche familiare, un conservatore risorgimentale sostanzialmente anarchico, poi non ideologizzato, ma come temperamento era uno a cui piaceva sempre andare controcorrente. infatti si chiamava controcorrente la sua rubrica. Ma lo era per davvero? Un altro numero. Lo deve chiamare lei? Scusa, sono... No, prego, tranquillo. Numero 7. 7. Qui ho sintetizzato una lunga lettera proprio a Feltri di Adriano Soffri in cui in sostanza dice Marco Travaglio, un piccolo squadrista, denuncia un sindaco, il sindaco di Salerno, De Luca, o almeno così lei aveva annunciato, o così scrive Soffri, che si augura il sindaco di incrociarlo di notte per strada e quindi per questa affermazione Travaglio lo denuncia, ma prima su di me ha scritto cose più vigliacche, tra cui Soffri stia attento a girare e se proprio deve girare attento a non trovare gente incazzata è meglio se cammina rasente ai muri. Questo riassumendo. Ma sai, intanto essere definito squadrista e vigliacco da un... Per conto terzi, dice... Da un... Boh, vorrei conoscere questi terzi, io ho tanti difetti, ma quello che scrivo è anche quello che scrivo di sbagliato, lo scrivo per conto mio e chi mi conosce lo sa, poi essere chiamato squadrista e vigliacco da uno condannato per omicidio mi fa abbastanza ridere, mi preoccuperei del contrario. Per quanto riguarda quello che avevo scritto di Soffri se vuole glielo uccido precisamente, se lo ricorda tanto. Me lo ricordo perfettamente, c'era una puntata di Porta a Porta diversi anni fa, sarà stato il 95, 96, in cui c'era il solito festival di reduci del terrorismo e c'era anche lui che chiedevano la soluzione politica per i terroristi, l'amnistia, insomma... Sul modello sud-africa, di solito si dice sul modello del sud-africa, esatto, dopo la fine dell'apartheid. Volemo se bene. Dato che io sono contro le amnistie, feci un pezzo dicendo che, dato che è vero che erano in vita molti ex-terroristi, ma erano in vita anche molti parenti di vittime, facessero pure l'amnistia che vogliono fare, ma si ricordino che potrebbero incontrare per strada qualche parente di vittima molto incazzato e quindi di stare attenti, questo io scrissi. Perché io devo dire che io tra le vittime e i carnefici scelgo sarà un mio difetto, sarò fatto male, scelgo le vittime. E che a proposito delle riletture sugli anni di piombo non vengono quasi mai considerate, forse nell'ultimissimo periodo, grazie ad alcuni libri di Benedetta Tobagi, di Mario Calabresi, di alcuni altri, ma prima gli unici che parlavano erano quelli che sparavano. e quindi lo scriverei esattamente a condizione data, riscriverei esattamente lo stesso pezzo. Non c'era niente di vigliaco, dicevo semplicemente di piantarla, di pontificare. Quando uno ha una condanna per omicidio il minimo che gli si dovrebbe chiedere è starsi zitto. Lui ricorda e ribadisce sempre ma io sono innocente. Ah, ma le carceri sono piene. Se tu entri in carcere e chiedi lei ha fatto qualcosa e dice no, io sono vittima di un complotto, è rarissimo trovare gente e ti vieni conto e dici sono stato io. Quindi questa era diciamo la mia posizione e la ripeterei esattamente. Altra cosa era quel sindaco De Luca De Luca che ha detto se incrocio vorrei incrociare Travaglio di notte in una strada. Sì. Ma l'ha querelato? Sì, l'ho querelato e è stato appena rinviato a giudizio. Un altro numero? Suo, lo deve chiamare lei Travaglio. Sì, ma vedi che sono rimbecilito. Sì, no, questi quelli chiari, quelli illuminati. Allora, quelli spenti li abbiamo fatti. Numero 9. Anche regia però. Staino, beri a Travaglio, mi lascia perplesso l'atteggiamento di fondo, vede ovunque Travaglio, inciuci e in trallazzi, è qualunquista, giustizialista, esagerato, non un uomo di sinistra. Dunque, Staino è il papà di Bobo e appunto l'ha raffigurato, anche se lo ha fatto poi specificando in una serie di interviste a seguito di una mezza rivolta dei lettori dell'unità che avevano detto ma come Staino, anche tu ti metti a attaccare Travaglio, lui ha specificato meglio il suo pensiero, mi ha detto ma io non vorrei che poi i miei figli crescessero con il mito che tutto si risolve, anche qui sto sintetizzando che l'intervista al Tirreno era molto lunga, con il mito della forca, che evidentemente sarebbe un suo mito, Travaglio. Premesso che le vignette sono sacre, la satire è sacra e quindi mi ricordo quella sera quando Padellaro mi disse c'è un problema, c'è tutta una pagina intera di Staino contro di te dipinto come un corvaccio e io scrivevo tutti i giorni sull'unità e io gli ho detto ma pubblica, ci mancherebbe altro, naturalmente Antonio l'avrebbe pubblicata comunque ma gentilmente mi aveva preavvertito quindi io non chiederei mai nessuna censura preventiva né mai mi metterei a denunciare un pezzo satirico o una vignetta a me non mi ha mica offeso il fatto di giustizialista quello sono abituato non è vero niente sono parole insensate allora scusi quando la definisce dice ma Travaglio non è un uomo di sinistra Travaglio è un uomo di destra di destra non lo so sicuramente non sono di sinistra ecco su questo non c'è dubbio ma non erano tanto quelle parole lì cos'era qualunquista giustizialista cos'era anche qui aspetta la forca e tutte queste scemate no no quelle non mi offendono perché sono giustizialista esagerato qualunquista è un bravo giornalista la sua denuncia delle malefatte di Berlusconi e in generale i suoi articoli contro la corruzione ai corrotti mi piacciono anche per la scrittura brillante ironica sarcastica ma non può diventare una bandiera per la sinistra dobbiamo costruire qualcosa dobbiamo aprire strade per un futuro diverso dobbiamo lasciare ai nostri figli una speranza un segno un qualcosa di più grande eterno e nobile che è una triste e povera forca e in questo Marco Travaglio non ci può aiutare a noi di sinistra questo diceva ma può darsi io non mi sono mai posto il problema se aiuto la sinistra cioè non me ne può fregare di meno se aiuto la sinistra o meno io faccio il giornalista racconto quello che vedo dico quello che penso non ho mai chiesto forche mi accontenterei semplicemente che chi commette reati venisse punito possibilmente in fretta ma a parte questo l'unica cosa offensiva era Beria perché Beria era diciamo l'inquisitore di Stalin il simbolo della repressione comunista anzi l'epuratore di Stalin io non sono mai stato comunista anzi sono sempre stato anticomunista Staino è sempre stato comunista quindi Beria glielo dicesse a qualcuno dei suoi io non c'entro niente allora adesso facciamo un'altra pausa poi ci promettiamo reciprocamente Travaglio che facciamo le domande diamo risposte sulle domande lo dico anche perché dietro alle quinte c'è il dottor Tarak Ben Ammar che prenderà il suo posto subito dopo il quale mi ha detto che è pronta a offrirle a proposito di giustizialismo il ruolo in una delle fiction che produce come Robespierre poi ve la vedete voi eh ma si sbaglia perché io non sono un giacobino io sono un girondino bene cassa grazie allora durante la pausa pubblicitaria Tarak Ben Ammar ci ha mandato a dire ma dovete chiarire questo passaggio sul giacobinismo e il girondismo perché se no non si capisce vuole schematicamente io sono per l'indipendenza del pubblico ministero dal potere politico cioè sono per mantenere la costituzione così com'è Berlusconi tutti quelli che vogliono riformare i magistrati li vogliono mettere sotto il controllo politico diretto o indiretto come avviene in Francia dove le procure sono sotto il governo e perché in Francia è così perché la Francia è ereditato dalla rivoluzione francese dai giacobini e poi dal modello napoleonico il fatto che il pubblico ministero è il braccio armato del governo a me questa cosa non piace non mi sembra garantista e quindi non è giacobino anche se qualcuno si stupirà da garantista io sono girondino non giacobino perché erano i girondini che volevano l'indipendenza dalle magistratura dal potere politico voilà prego numero uno uno cercava Lucia Annunziata un'aureola di martire per rifarsi una virginità dopo la censura di Rayot purtroppo mi fa dar ragione a Silvio Berlusconi alt l'episodio è chiusura di Rayot programma di Sabina Guzzanti quello evocato nella sua dichiarazione ma l'incidente è quello in cui a mezz'ora in mezz'ora il programma di Lucia Annunziata Lucia Annunziata intervista a Berlusconi che abbandona lo studio e lei commenta così cercava una raiola di martire per rifarsi una censura di Rayot avvenuta mentre annunziata Lucia era presidente della RAI e io le chiedo ma come Lucia è di sinistra ed è pure una donna il fatto che sia di sinistra non vuol dire niente il fatto che sia una donna nemmeno nel senso che secondo me la parità dei diritti si raggiungerà quando si potrà criticare una donna senza sentirsi dire ah ma è una donna e beh anche le donne sbagliano se Dio vuole come noi maschietti secondo me lei fece due errori uno molto grave avallare la chiusura di Rayot da presidente della RAI l'altra più lieve e cioè fare un'intervista insolitamente aggressiva nei confronti di Berlusconi che se fosse diciamo usuale in Italia fare le interviste aggressive ai politici ci starebbe a me sembrò molto più aggressiva di quelle fatte ad altri politici e quindi scrissi che insomma al posto di Berlusconi non al posto di Sarkozy di Cameron perché in tutti i paesi quando uno va in televisione gli fanno un mazzo così ma in Italia dove ti metti lì tranquillo e fai quello che vuoi il fatto che quella volta lui abbia avuto un'intervista aggressiva lo ha autorizzato a meravigliarsi e a prendersela e quindi una volta tanto mi è capitato di dare ragione a Berlusconi tra l'altro adesso mi viene in mente che quando ci fu la chiusura di Riot ma lo racconto solo come a valore di aneddoto Francesco De Gregori era ospite di primo piano conduttore Maurizio Mannoni il quale fece vedere un servizio sulla chiusura del programma e chiese a De Gregori un commento sulla vicenda e De Gregori credo prendendo in contropiede Mannoni ma perché legato all'immagine di De Gregori che è comunque un cantante un artista che per il popolo della sinistra ha rappresentato e rappresenta molto disse purtroppo i comici non mi fanno ridere io sono affezionato ai comici in bianco e nero 1,2,3 Vianello e Tognazzi detto questo Sabina Guzzanti è una grande artista la censura è sempre un fatto deprecabile ma devi essere bravo a non metterti nella condizione di farti censurare e su questa frase di De Gregori si chiuse la puntata di primo piano perché credo che Mannoni che saluto insomma fosse anche lui un po' spiazzato da questo giudizio che poteva sembrare totalmente come dire assolutorio della vicenda cioè è stato chiuso perché non poteva non andare così sì in Italia quando c'è la censura si dice sempre che il censurato si è fatto censurare cioè che in fondo se l'è cercata io trovo che sia una sciocchezza sublime si cerca di scambiare l'aggressore con l'aggredito e c'è un po' di cultura autoritaria in questo secondo me la censura non si fa e basta se non vuoi un programma non chiami un artista a farlo se chiami l'artista poi il programma glielo fai fare e non puoi pretendere che l'artista si metta a giocare a ballare i minuetti purtroppo noi scambiamo per satira certi minuetti che con la satira non c'entrano niente 2, 4, 6, 8 sono rimasti pari non so se ha notato 2 ha detto? 8 8 Mario Giordano lei ha detto al nostro tempo che era un giornale al quale collaboravate nello stesso periodo un giornale piemontese era Grassoccio guance rosse di sinistra questo riferisce Sabelli Fioretti intervistando Mario Giordano che gli ricordava questo giudizio a sua volta Giordano replica Travaglio Berlusconiano più che Montanelliano ovvero Berlusconiano in quanto Montanelliano un integralista cattolico vi eravate tanto amati? non lo so io che la memoria evidentemente gioca brutti scherzi a qualcuno io non sono mai stato né integralista né tantomeno Berlusconiano anche perché io Giordano cattolico? eh? cattolico? cattolico sì credo in Dio beh sì certo nella chiesa? nella chiesa sono un po' anticlericale ecco vabbè ma un discorso lungo io ho conosciuto Giordano nel 88 89 come facevo a essere Berlusconiano visto che Berlusconi faceva l'imprenditore privato non lo so sarebbe come dire che uno fa l'Agnelliano il De Benedettiano non esistevano i Berlusconiani nell'89 quando ho conosciuto Giordano ero talmente Berlusconiano che un mese prima che Berlusconi entrasse in politica io ho lasciato il giornale edito da Berlusconi quindi insomma si commenta da sé lui è andato da Berlusconi dopo che è entrato in politica e questo spiega perché i suoi ricordi si sono annebbiati 2 4 6 sono entrati a Palazzo Chigi con le pezze al culo e ne sono usciti ricchi ma non intendevo dire che avessero messo i soldi in tasca e quindi come se ne esce caro Travaglio il riferimento era coloro che erano a Palazzo Chigi entrati con le pezze al culo e usciti ricchi diciamo nella stagione del governo di centrosinistra solo che centrosinistra in quegli anni ha cambiato Romano Prodi e poi il D'Alema 1 il D'Alema 2 è amato per quanto lei non avesse fatto un riferimento specifico la lettura generale che ne è stata data è che lei si riferisse a un periodo preciso di quella legislatura quando a Palazzo Chigi c'erano D'Alema e i suoi collaboratori esatto mi riferivo esattamente a quel periodo lì la frase precedente era una frase di Guido Rossi che definì il governo D'Alema una merchant bank dove non si parla l'inglese e si riferiva ad alcuni affari finanziari a cominciare dall'affare Telecom Telecom tre proprietà fa del 99 che evidentemente non gli era piaciuto e io lo tradussi in lingua volgare diciamo in dolce stil novo con quell'espressione sulle pezze al culo effettivamente in quella stagione ci sono persone che hanno che hanno capitalizzato una buona carriera per il loro futuro diciamo che non c'è nessuno che è finito per la strada dopo quell'esperienza anzi hanno tutti migliorato il loro tenore di vita sono felice per loro secondo me la politica è un'altra cosa però comunque non è la prima nemmeno l'ultima volta diciamo che qualcuno oltre a fare politica si occupa attivamente anche di vediamoci siccome siamo a rischio querela nel senso che no ma no io ho già preso un paio di querele da uno dei collaboratori di D'Alema che si sentì chiamato in causa anche se io non l'avevo nominato sai la prima gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo così la querela la reitera ma comunque prego no no ma tanto sono stato già assolto sia in sede penale che in sede civile quindi si può criticare un gruppo che sta al potere per fortuna numero 4 4 no 4 6 4 l'agonia e il giustizialismo non portano dice Sabrina Ferri in un'intervista a Veneti Ferra nulla la piazza che sentenze giudica mi fa paura non sfilare in corteo le chiedo è sintomo di intelligenza con il nemico? no assolutamente uno può benissimo non sfilare dipende da qual è il corteo da che cosa chiede certo è che se nel corteo si chiede di fucilare qualcuno di impiccare qualcuno non ci vado neanch'io in quel corteo se invece si fanno io le manifestazioni a cui ho partecipato non erano delle sfilate io quando sono andato in piazza o ad ascoltare o a parlare era era perché si facevano dei momenti di informazione c'erano delle persone che parlavano e raccontavano delle cose e dicevano delle cose si facevano sentire in quel senso le manifestazioni sono utili le manifestazioni a ragione la ferilli che urlano alla forca a me non sono mai piaciute non ci sono mai andato ma ne ho viste anche abbastanza poche devo dire perché io tutte ste forche a parte quella che in Parlamento sventolò un leghista nel 92 altre non ne ho viste numero 6 beh bravo chissà perché hai visto alla fine abbiamo allora Beppe Grillo contro De Magistris Di Pietro contro Tranfaglia che ha annunciato Querela prima Di Pietro contro Chetto poi contro Giulietto Chiesa Giulietto Chiesa contro Di Pietro Veltri Eglio versus Travaglio perché a un certo punto ha detto Veltri che era tornato in libreria l'odore dei soldi riscritto senza che nessuno gli avesse detto niente insomma ammesso siete tutti di sinistra lei ha specificato che lei non c'entra con la compagnia e non so neanche Di Pietro a questo punto le chiedo ma chi sono i compagni che sbagliano in questa allegra ma non sbaglia nessuno sono quasi tutti dei caratteri delle persone di carattere che hanno un pessimo carattere e che quindi spesso non vanno d'accordo fra di loro Di Pietro è leggendario nel diciamo nel mettersi in casa persone con le quali poi litiga è leggendario anche per non riuscire mai a lavare i panni in famiglia per cui qualunque spiffero capiti a casa sua viene fuori subito da tutte le parti il caso di Tranfaglia l'ultimo è abbastanza sintomatico non credo che Tranfaglia sia l'unico intellettuale che si è trovato male in un partito credo che sia successa la stessa cosa anche per alcuni intellettuali che erano stati presi in quella mega assemblea del PD che poi se ne sono andati perché hanno capito che la cultura lì dentro era piuttosto diciamo leonastica eppure la cosa non è venuta fuori credo che sia che sia giusto che le cose vengano fuori e credo che sia giusto che i caratteri quando a un certo punto sono incompatibili si scazzino tra quelle persone però devo dire compagni ne ho visti pochi nel senso che Grillo di sinistra non è Di Pietro di sinistra non è io poi non faccio politica quindi non centro proprio niente De Magistris De Magistris è di sinistra sicuramente Giulietto Chiesa e Occhetto sicuramente quindi molto spesso diciamo l'opposizione a Berlusconi ha portato anche persone molto diverse a cercare di mettersi insieme e poi a un certo punto hanno scoperto che le diversità erano sono una curiosità non abbiamo parlato di inchieste anche perché insomma meno male almeno cambiamo un po' però notizia di ieri la famosa inchiesta Toghe Lucane il Basilicata Gate promosse da De Magistris si è chiusa che riguardavano 30 persone che avrebbero costituito un comitato d'affari in Basilicata eccetera si è chiusa con uno luogo a procedere che sono stati tutti archiviati avendo detto un altro giudice che purtroppo sì era un bellissimo discorso teorico ma di prove che sostenessero l'accusa non ce ne erano poche ma sai io non ho ancora letto quel decreto di archiviazione quindi me lo leggerò molto attentamente De Magistris non ha fatto un plissè cioè non ha commentato almeno fino a stasera mi pare no ma lui non ha commentato nemmeno le altre vicende why not e Posidone dove invece a differenza di questa indagine per alcune posizioni si è arrivati a rinviaggiudizio forse anche addirittura già a condanne di primo grado dovrei controllare ma credo che faccia bene lui ormai fa un altro mestiere se dovesse entrare in quelle vicende che cosa dovrebbe dire dovrebbe dire che i suoi indagati secondo lui erano colpevoli cioè non sarebbe corretto secondo me potrebbe dire una cosa e cioè che per vedere se un magistrato è bravo o no bisogna lasciargli completare la sua inchiesta mandarlo davanti al GIP e vedere lì davanti al GIP come finisce se tu gliela levi prima l'inchiesta la passi a un altro che poi la conclude lui e va lui davanti al GIP come fai a prendertela con quello che c'era prima chi ti garantisce che quello che è venuto dopo non abbia diciamo magari letto frettolosamente le cose o non avesse un'altra impostazione o non abbia idea di che cosa avrebbe fatto De Magistris al posto suo chi lo sa magari De Magistris alla fine di queste indagini avrebbe chiesto pure lui qualche archiviazione e l'avrebbe ottenuta non è mica detto che il PM deve chiedere la condanna per tutti i suoi indagati l'indagine si fa apposta per scoprire se uno è colpevole o innocente purtroppo per De Magistris non sapremo mai se era un buon magistrato un cattivo magistrato è stato un pessimo magistrato perché delle tre inchieste famose Poseidone, Wainotte e Toghe Lucane non gliene hanno lasciata finire nemmeno una gliene hanno tolte due e la terza stava scrivendo le richieste di un mio giudizio con qualche rilievo financo disciplinare il CSM lo ha addirittura punito stabilendo che non poteva mai più fare il PM per questo lui è andato in politica non è che ha fatto il PM per andare in politica e quando gli hanno impedito di fare il PM è andato in politica sembrerebbe che i rilievi fossero sul contenuto erano anche di procedure cioè di mancata osservanza di norme di atti che non erano sfatti secondo il codice di procedura penale cioè c'erano degli appigliamenti disciplinari sì sì ma le inchieste le hanno tolte i suoi capi che attualmente sono indagati per corruzione giudiziaria a me sarebbe piaciuto perché credo che sia corretto in uno stato di diritto che il magistrato inizia l'indagine e la finisce e poi va a sbattere davanti al GIP se il GIP gli dà torto è colpa sua se gli dà ragione si va a processo tra virgolette è merito suo e si va a processo qua non abbiamo avuto la fortuna di vedere completare nessuna delle tre indagini fino davanti al GIP a De Magistris il che fa pensare che magari le inchieste le aveva fatte tutte malissimo ma che a qualcuno faceva comodo che non le completasse perché vedi mai che invece una magari l'avesse fatta bene è un dubbio che ci rimarrà sempre grazie a Marco Travaglio il quale compare in un film di prossima uscita venerdì 26 che si intitola Silvio Forever fatto da Roberto Faenza con Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella questa è la conferenza stampa oggi di presentazione grazie vediamo perché no non mi sembra che ci siano alternative al momento e comunque è risposta speriamo di no per me sì Silvio Forever e spero che vinciamo di nuovo le elezioni di una bonità di una generosità io penso che tutti lo dicono e forse l'unico ognuno può avere ripeto la sua opinione non si può non è un personaggio banale è un personaggio formidabile della commedia dell'arte nel bambino mi piaceva dipingere e andavo matto per i purettini gli interiavo nella corteccia di Pino e poi gli pitturavo scrivevo il copione e facevo tutte le voci noi eravamo perfettamente consapevoli del fatto che avremmo probabilmente scontentato chi si aspettava un film militante questo non è un film militante 15 miliardi in 7 anni che arrivano in contanti 150 miliardi dell'epoca che sarebbero sui 500 di oggi provenienza sconosciuta non c'è nessuna storia però me lo lasci dire perché è importante più trasparente e chiara della mia non ci interessava andare a massaggiare le convenzioni degli antiproposcoliani né andare a massaggiare le convenzioni dei peroscoliani io non mi considero un nemico di Berlusconi perché se lui ritiene Berlusconi di dividere il mondo in quelli che sono che lo adorano o in quelli che gli sono nemici io mi chiamo fuori scusi se mi cito ma una volta io ho scritto con un po' di malizia che se lei avesse un puntino di tette farebbe anche l'annunciatrice ho l'impressione che lei faccia un po' tutto adesso mi sta dicendo edilizia televisione editoria come fa ad avere tante attività che vanno tutte bene cosa vuole che le risponde che siamo bravi grazie buona vera eh purtroppo si è un dato di fatto quello forse che il film vuole ammettere è questo fa inza anche essere un po' titubante su questo però è quello di dire Silvio Forever comunque forza Berlusconi sempre taglie tutto presidente siamo con te bunga 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 that's the only thing I know Silvio Forever sarà Silvio realtà Silvio per sempre aspettiamo il sequel la mia doppia vita sul lavoro ho un piglio manageriale nel privato sono emotiva ansiosa un po' bambina vivo tra i pupazzi e i miei gatti non ho paura dell'amore e con il fidanzato Sergio Assisi stiamo bene siamo felici protagonista di una fiction dagli ascolti record Rossella ehm in Rai effigiata sulla copertina recentissima di gente Gabriella Pession la quale ci interpreta abbiamo pensato che di solito il diavolo chissà perché nei film è sempre interpretato da uomini ma il diavolo vero tentatore di solito secondo noi è donna e quindi dal film l'avvocato del diavolo in cui Keanu Reeves è un avvocato che non sa che il suo datore di lavoro sarebbe anche il suo patrigno ed è il diavolo interpretato da Al Pacino ecco Al Pacino a Keanu Reeves spiega in qualche modo come si sta al mondo e qual è il peccato più grave che eccita però il diavolo Gabriella Pession hai ragione su una cosa caro Kevin io ti stavo osservando osservo e aspetto è più forte di me non ne posso fare a meno ma non sono un burattinaio io non faccio succedere le cose non è così che funziona come si chiama ah già il libero arbitrio io preparo solo la scena ai fili te li tiri da solo chi sono io chi sei tu piuttosto non hai mai perso una causa perché perché sei un grande avvocato ah è un bel primato certo ma prima o poi doveva finire perché nessuno vince sempre te l'avevo detto l'hai dimenticato non fare il coglione piantra di illuderti tu sei quel che sei un vanitoso la vanità è decisamente il mio peccato preferito è elementare Kevin la vanità è lo piace più naturale per esempio non è che non ti importasse niente di tua madre o tua moglie è solo che tu eri un po' più impegnato con un'altra persona Kevin con te stesso ma non essere troppo duro con te ora tu vuole di qualcosa di più e non puoi continuare ad autopunirti per questo Kevin io non ti ho facilitato non potevo il libero arbitrio ricordi io voglio che tu sia te stesso lascia che te lo dica figliolo il senso di colpa è come un mattone come un sacco pieno di mattoni non devi fare altro che scaricarlo per chi è che ti incolli tutti quei mattoni si può sapere Dio è così per Dio ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio a Dio piace guardare è un guardone è un guardone giocherellone riflettici un poco lui dà all'uomo gli istinti si lui dà all'uomo gli istinti ti concede qualche straordinario dono e poi che cosa fa Dio te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento per farsi il suo bravo comico spot pubblicitario del film fissa le regole in contraddizione una stronzata universale guarda ma non toccare tocca ma non gustare gusta ma non inghiottire e mentre tu saltelli da un piede all'altro lui che cosa fa se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate perché è un moralista perché è un gran sadico è un gran padrone assenteista ecco che cos'è e uno dovrebbe adolarlo no mai meglio regnare all'inferno che servire in paradiso certo e perché no io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi ho coltivato ogni sensazione che il luogo l'uomo è in grado di provare a me interessava quello che l'uomo desiderava e non l'ho mai giudicato e lo sai perché perché io non l'ho mai rifiutato l'uomo nonostante le sue maledette imperfezioni io sono un fanatico dell'uomo sono un umanista probabilmente l'ultimo degli umanisti e chi stanno di mente potrebbe mai negare che il ventesimo secolo è stato interamente mio tutto quanto che è in ogni cosa tutto mio io sono all'apice e questo è il mio tempo e questo è il nostro tempo com'è il passaggio su Dio? Dio ti dice guarda com'era? guarda non Dio dice guarda ma non toccare tocca ma non gustare gusta ma non inghiottire bene dunque volevo chiedere una cosa Pession passare a un nuovo lavoro dopo il successo di una fiction così milioni e milioni di telespettatori è complicato qual è il prossimo progetto lavorativo che la vede? il prossimo è in un ambito totalmente differente è una commedia romantica in due puntate con la regia di Giorgio Capitani ed è una sorta di Pretty Woman ispirata un po' a una cena dentro la Pretty Woman italiana molto leggera molto goffa tenera proprio tutto un altro clima dal clima ottocentesco bene in bocca al lupo grazie di essere stata con noi e a questo punto subito dopo la videosigla non perdetela perché è di strettissima attualità qui Tarak Ben Ammar grazie le notti non finiscono all'alba nella via le porto a casa insieme a me ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui inutile parlarne sai non capiresti mai seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai mi sento un po' bambino ma lo so con te non finirà il sogno di sentirsi dentro a un film e poi all'improvviso sei arrivata tu non so chi l'ha deciso ma hai preso sempre più una quotidiana guerra o una razionalità ma va bene purché serva per farmi uscire come vai ma chi sarai per fare questo a me notti intere ad aspettarti ad aspettare te dimmi come mai ma chi sarai per farmi stare qui qui seduto in una stanza pregando per un sì gli amici se sapessero che sono proprio io pensare che credevano che fossi quasi un mio perché non mi fermavo mai nessuna storia inutile uccidersi d'amore ma per chi lo sai all'improvviso sei arrivata tu non so chi l'ha deciso ma hai preso sempre più una quotidiana guerra o la razionalità ma va bene purché serva per farmi uscire come vai ma chi sarai a fare questo a me notti intere ad aspettarti ad aspettare te dimmi come mai ma chi sarai per farmi stare qui tu l'hai seduto in una stanza pregando per un sì Alberto Sordi dunque aggiornamenti la Francia cede sul ruolo della Nato in Libia e si dice d'accordo ad un comando dell'eleanza atlantica in sostegno delle forze della coalizione che potrebbe però rientrare nel quadro di una struttura internazionalizzata a cui parteciperebbero anche altre nazioni che non sono parte dell'organismo atlantico ha detto a Lanza il portavoce del ministero degli esseri francese Bernard Valerot siamo d'accordo per un comando della Nato in sostegno alle forze della coalizione presente in Libia ma intanto la versione online del settimanale tedesco Spiegel dice che la Germania si ritira invece dalle operazioni Nato nel Mediterraneo un portavoce del ministro della difesa ha annunciato che le due fregate le navi con 550 soldati verranno riportate al comando tedesco vi do questi aggiornamenti per completezza di informazione come si dice in questi casi ma ha maggior ragione per introdurre e dare il benvenuto ringraziandolo di essere con noi che come al solito siamo in ritardo sui tempi ma insomma Tarak Benammar un imprenditore un finanziere che ha le sue imprese che siede in molti consigli di amministrazione anche di aziende italiane fino a prova contrario perché diciamo così in questo momento il mercato italiano sul fronte delle grandi imprese le ultime notizie riguardano la Parmalat che è oggetto di attenzioni da parte di un grande gruppo francese anzi i francesi hanno fatto o sbaglio hanno fatto un bel po' di buoni affari in Italia fino adesso sì perché dice fino adesso? non si sa mai com'è nella vita un po' come lei che ha attraversato come Annibale le Alpi per arrivare in Italia Annibale ha perso speriamo che non perdo anche io speriamo di no allora io l'ho invitata tanto perché era un piacevole ritorno dalla volta precedente grazie di aver citato il nostro invito ma perché lei incrocia argomenti di un certo spessore comincerei da quello che sta succedendo nel bacino del Mediterraneo di fronte alle coste italiane la Libia ultimo paese in ordine di tempo dopo quello che è successo prima in Tunisia il paese dove lei è nato con la dipartita del presidente Ben Ali l'Egitto con la dipartita del presidente Mouar e adesso la Libia con la permanenza del dittatore Gheddafi inquadriamo un attimo l'argomento poi le chiedo nello specifico perché i giornali e lei stesso a un certo punto se non ricordo male rivendicò in qualche modo un ruolo attivo suo intendo nel quadro dell'ultimo trattato di cooperazione tra Italia e Libia quindi a maggior ragione penso che lei abbia gli elementi sufficienti per spiegarci un po' cosa sta succedendo e se quello che noi stiamo facendo come italiani e come europei va nella direzione giusta allora grazie per il pubblico italiano sono tunisino e ho vissuto l'indipendenza della Tunisia dal colonialismo che era francese la colonia Tunisia Algeria Marocco la Libia era italiana il mio ruolo nel trattato di pace tra la Libia e l'Italia era di fare in modo che l'Italia sia il primo paese occidentale e questo è stato votato dal vostro Parlamento a riconoscere che storicamente i popoli hanno diritto alla loro indipendenza e che dunque il colonialismo è stato un errore storico sia quello francese che inglese che italiano ma l'unico paese a aver chiesto scusa al popolo libico è bene importare dirlo è stato l'Italia vedrete che nella storia dell'Europa l'Italia sarà quello che ha avuto più visione come dicono gli americani di essere politically correct per me partecipare con un paese amico che amo che è l'Italia a chiedere scusa a un popolo che è stato dal fascismo e certamente non di questo regime scusa quando sia la sinistra sia la destra erano tutti d'accordo negli ultimi vent'anni per fare questo trattato dunque io sono orgoglioso e sono veramente nella linea dove sono stato cresciuto della Tunisia quando il mio zio il presidente Borghiba ha ottenuto l'indipendenza dai francesi dunque questo per me per la gioventù di oggi che si parla di democrazia di libertà dei popoli è importante capire che i popoli hanno il diritto alla autodeterminazione credo che noi abbiamo un'immagine sua con suo zio e credo con Muammar Gaddafi la possiamo far vedere per cortesia oltre la scritta che dà un po' di mal di testa se vediamo la foto è meglio aspetti che arriva o mi sbaglio in attesa della foto tanto la vediamo arrivano Sarkozy sabato ha dato l'ordine intanto la ringrazio eccola qua questa è la foto adesso arriverà anche credo tutto schermo queste sono foto originali dell'epoca nel senso che sono sue sì possiamo vederla anche studio per cortesia se non c'è un problema se no intanto inquadratela per chi è a casa direttamente dal tavolo questa è stata scattata quando e dove questa è una foto di 35 anni fa in mezzo c'è Muammar Gaddafi giovane il sottoscritto ancora più giovane e mia zia la signora Borghiba che è una grande donna che è stata l'instrumento della libertà delle donne in Tunisia Borghiba l'ha sposata ma lei ha chiesto il diritto per le donne in cambio di questo matrimonio e se la Tunisia oggi è un paese moderno è perché le donne hanno il diritto prima di voi in Italia e prima della Francia il diritto al divorzio e alla proprietà e al voto noi nel 57 con l'indipendenza questa foto è storica che vi dimostra che anche se non sono un politico sono un produttore cinematografico prima di essere un imprenditore nato in una famiglia politica ho sempre assistito a delle negoziazioni che mi ha dato l'opinione che la politica non è il mio mestiere ma ho sentito ho ascoltato e ho imparato questa foto è storica perché Gheddafi aveva convinto il mio zio il marito della signora Wasila Borghiba di fare l'unione tra la Tunisia e la Libia e Borghiba quel giorno era ammalato e stanco e ha firmato a Gerba all'isola di Gerba la famosa unione Tunisia Tunisi Libica ovviamente aveva cambiato idea il giorno dopo e ci ha mandato mia zia che Gheddafi adorava la chiamava mamma talmente la rispettava nel mondo arabo come da voi le donne di una certa età sono molto rispettate anche quello di meno ma quando sono più anziane sono rispettati non mi vorrà dire che c'è un matriarcato no ma lei era una donna molto democratica molto forte con tutti i capi di stati perché era sempre per la libertà delle donne siamo andati a cercare il trattato di pace siamo andati a dirgli scusa caro Gheddafi forse un giorno i popoli decideranno di unirsi ma vogliamo dare il voto ai popoli e non farlo a tavolino tra lei e Burghiba e quel giorno sono andato lui ci ha dato il trattato di unione ma ci ha dato il falso una fotocopia e perché? perché era meglio tenere l'originale non si sa mai se si può sono dovuto ritornare anni dopo un anno dopo a prendere l'originale dunque i miei rapporti con Gheddafi erano molto negativi molto distanti e lui recentemente in un discorso durante il siegio di Tripoli un mese fa ha dichiarato che il suo più grande nemico era Burghiba presidente della Tunisia ecco perché questa foto per me è storica grazie ci vediamo subito dopo la pubblicità siamo sempre in compagnia del tunisino Tarak Ben Ammar scusi adesso le chiedo altre cose però su un passaggio della sua dichiarazione precedente cioè sul fatto che quando avevate firmato quell'accordo poi lei è andata a prendere la copia la copia non era quella corretta perché Gheddafi aveva fatto il furbetto diciamo così del quartierino del deserto sarebbe meglio dire il furbetto del deserto e poi lei un anno dopo era tornato ecco ma alla luce di questo precedente lei che è un grande amico di Silvio Berlusconi l'aveva messo in guardia Berlusconi sul fatto che attento Gheddafi sì è un amico eccetera però stai attento che poi magari se capita l'occasione è capace di rifilarti una fregatura gliel'aveva detto? allora ho detto che prima non era un amico che aveva avuto rapporti difficili io non avevo visto Gheddafi da 24 anni fino al 2008 con questi rapporti difficili che gli ho levato e gli ho detto che era imprevisibile e lo è basta vedere cosa sta facendo è imprevisibile poi le devo chiedere una cosa perché per noi europei per noi italiani almeno per me certe volte uno parla del Nord Africa e lo considera tutto uguale cioè l'Algeria il Marocco la Tunisia la Libia l'Egitto sono Nord Africa che sarebbe come dire in Europa che la Francia l'Italia la Grecia e la Spagna sono la stessa cosa cosa che evidentemente non è però io prima di andare in pubblicità le chiedevo Sarkozy sabato ha dato l'ordine andiamo con gli aerei interveniamo e di fatto aprendo quello che non so come altro con quale altro modo definire se non uno stato di guerra Sarkozy ha fatto bene e quanto di strumentale c'è nella posizione francese qualcuno ha detto a parte le accuse dei figli di Gheddafi al Presidente Sarkozy lo abbiamo finanziato nella campagna elettorale abbiamo le prove i soldi faremo vedere al mondo che uomo è Sarkozy Sarkozy ha risposto ma non gli aerei qualcuno ha detto ma vi siete chiesti la Total grande impresa petrolifera francese se aveva interessi a interessi in Libia per la Francia e vi siete chiesti se la BP British Petroleum inglese britannica aveva interessi in Libia se non vi fate queste domande dice qualcuno non capite perché la Francia e l'Inghilterra e la Gran Bretagna sono stati i paesi che più diciamo violentemente hanno detto bisogna fare qualcosa va detto anche che poi Hillary Clinton che era in visita anzi credo che possiamo mandare a tappeto delle immagini perché Hillary Clinton ha dato un'intervista alla sua televisione Nesma una lunga intervista quando si sono trovati sabato insieme di fatto hanno deciso l'intervento ci sono interessi strumentali da parte della Francia e dell'Inghilterra ora tutti i paesi hanno bisogno del petrolio arabo finché scopriamo un'altra forma di energia e purtroppo il nucleare sta dimostrando di essere un problema certamente Sarkozy ma anche l'America tutti hanno bisogno di intervenire ma non era una decisione di Sarkozy da solo ricordiamoci è stato il consiglio di sicurezza a prendere questa decisione è andato tutta la coalizione che voleva andare con certi paesi che hanno detto di no ma guarda bene che la Cina che non è parte della coalizione però non ha fatto il veto poteva benissimo bloccare ovviamente ci sono sempre dei interessi la Russia India Brasile petrolio c'è petrolio sarà necessario petrolio sempre per domani il fabbisogno dell'Occidente ma per essere giusto cosa poteva fare il mondo occidentale c'è una premessa che non dobbiamo voi cattolici avete il peccato originale il peccato originale del mondo arabo è che questi uomini non possono rimanere al potere così tanto 42 anni per Gheddafi pensa che poco il mio zio anche è rimasto 30 anni troppo Ben Ali 23 anni troppo Mubarak 33 anni troppo dunque la base è che questi capi dittatori generali chiamateli come volete sono rimasti troppo a lungo alla testa di questi paesi e i popoli e soprattutto la gioventù ha detto basta non ne possiamo più questo è il miracolo della rivoluzione tunisina non hanno e guarda io ero là durante la rivoluzione giravo un film con Antonio Banderas con Frida Pinto un grande film che si chiama l'oro nero sul petrolio guarda caso ma la Tunisia non ha petrolio e siamo stati noi i primi a dire basta e non io non i borghesi non gli intellettuali non gli uomini da fare i giovani giovani sotto i 25 anni che hanno avuto il coraggio e un giovane un martire un giovane che vendeva frutta e legumi Mohammed Boazizi che ha deciso perché è stato schiaffeggiato da un poliziotto del municipio della sua cittadina di non accettare più l'umiliazione e di chiedere dignità lui poteva farsi saltare come avete visto in Iraq dei giovani che amicasi o altrove e ammazzare 10, 20, 30 persone il governatore il sindaco ha deciso di farsi del male a sé per svegliare la nostra modo di essere egoista io parlo a noi tunisini non parlo agli altri popoli e ci siamo svegliati come da voi Gesù voi credete che ha dato la vita per i peccati dell'umanità questo giovane e ovviamente non lo paragono a Gesù lontano da me si è dato da fuoco non ha detto una parola guardando nei occhi la signora che l'ha schiaffeggiato davanti a tutti è andato dietro ha trovato un negocio non era premeditato che vendeva benzina alcol si è preso la benzina se l'ha messo sul lato sinistra si è accesa l'ha guardato nei occhi è caduta il nostro popolo ha detto se questo giovane da solo ha fatto questo atto vuol dire che anche noi dobbiamo svegliarsi dunque questi dittatori che poi la Francia decide di intervenire con l'Europa perché un uomo che non vuol lasciare il potere in più spara sul suo popolo cosa deve fare l'Occidente? Doveva fare niente lasciare il massacro intervenire e forse non riuscire non è una decisione facile dunque io penso che le intenzioni di questi paesi sono buone forse dietro c'è il petrolio il desiderio ma credo che questa mossa del Consiglio della Sicurezza era per liberare un popolo di un eventuale massacro prima con Marco Travaglio al quale ho detto che secondo lei potrebbe fare bene la parte di Robespierre ci siamo chiariti sul ruolo dei Girondini dei Giacobini la rivoluzione francese il terrore il termidoro e va bene abbiamo parlato di questo argomento e abbiamo convenuto su una circostanza però che quando l'Occidente si ricorda dei diritti dei popoli guarda caso succede sempre quando le popolazioni minacciate vivono in realtà che sono economicamente interessanti per l'Occidente perché sul ricordavo Ruanda ma insomma non c'è stato posso ricordare il Darfur è vero Darfur condivido stanno là e di crisi dimenticate ce ne sono a bizzeffe certamente l'Occidente non è perfetto come gli esseri umani che la controllano hanno i difetti e l'egoismo di noi esseri umani ma il fatto che non hanno fatto altrove non per questo non lo devono fare là certamente il problema che si pone oggi cosa farà l'Occidente a Bahrain dove si spara sulla folla cosa farà nel Yemen dove si spara sulla folla cosa non ha fatto l'impressione che anche in Siria si comincia a muovere qualcosa cosa ha fatto e non ha fatto in Iran dove l'opposizione è stata completamente non si sa dove l'oppositore iraniano è sparito è un problema di etica ma la politica purtroppo spesso non è soltanto etica è realpolitik se l'Occidente doveva avere relazione soltanto con dei regimi democratici e liberali rimangerebbe pochi i regimi a avere relazione è un dato per esempio soltanto due democrazie hanno il petrolio la totalità del petrolio e del mondo di regimi non democratici con i quali l'Occidente ha a che fare sono non delle democrazie le uniche sono Venezuela e Russia e c'è chi può dire anche se la Russia è una democrazia ma accettiamo che lo è dunque la politica ecco perché io non l'ho mai amata ho preferito il cinema perché al peggio faccio un brutto film perdo soldi ma non vite umane ecco perché la politica è un messiere difficile dove uno deve allontanarsi dai suoi sentimenti personale e cercare cosa è meglio in quel momento in quell'istante credo che la decisione di intervenire in Libia per salvare il popolo libico da un uomo che è rimasto 42 anni al potere fosse necessaria non la voglio tirare in mezzo a una polemica perché fa questo gesto come dire perché adoro l'Italia perché è un paese che vive di polemica mi diverte ma fra poco ci occupiamo anche delle vicende italiane su cui lei in qualche modo ha detto la sua di recente con un'intervista al Corriere della Sera su quello che sta succedendo tra Mediobanca Assicurazioni Generali Rizzoli Corriere della Sera e RCS se non annoiamo il pubblico su queste cose no ma le chiedo solo io tendo a semplificare quando è possibile spero anche di semplificare rendendo la cosa comprensibile vediamo però prima non voglio tirarla in mezzo a una polemica le dicevo perché riguarda una trasmissione di questa stessa rete è un collega di questa stessa rete quindi sarebbe scorretto e inelegante che adesso io però ieri sera lei ha telefonato in diretta all'infedele programma di Gad Lerner il quale le ha fatto osservare che apprezzava diciamo anche qui adesso sto riassumendo io apprezzava quanto lei diceva sulla voglia di democrazia dei giovani tunisini nei confronti di Ben Ali che era stato 23 anni al potere però in sostanza diceva Lerner in questi 23 anni non è che a lei le cose siano andate male anzi lei ha vissuto bene all'ombra di un paese la Tunisia governato da questo dittatore le ha citato un libro che evidentemente Lerner conosce molto bene il gatto pardo è anche un grande film è un grande film di Lucchino Visconti di quel libro prego un grande film di quel libro di Lucchino Visconti come no con Barlan Cast e Claudia Cardinale tutto è necessario che cambi perché tutto resti uguale vuole correggere tanto la tradizione di Gallagherini la guardo sempre mi piace molto la sua ieri anche hanno detto delle cose molto sensate sulla politica però c'è un'ossessione nelle trasmissioni italiane che ogni volta che si ritorna su un argomento non si può evitare di dare una spaccata a Berlusconi e automaticamente essendo io suo amico da 26 anni mi tirano dentro e mi va bene perché rivendico l'amicizia e Lerner ha dato delle informazioni sbagliate il ruolo di un giornalista è di dare al pubblico l'informazione giusta poi di essere libero di interpretare e di dare la sua io ho chiamato Lerner e ho detto lei ha detto qualcosa di sbagliato e lei non ha e non sa perché lui ha passato un piccolo elemento di televisione che anche lei aveva passato quando ero qua di Berlusconi due anni fa nella mia televisione in Nord Africa quando ha fatto un complimento a una bella presentatrice ecco allora non lo sapevo ma guardi un po' ma guardi un po' che invece noi ce l'avamo preparati a prescindere come avrebbe detto Totò ce l'avevamo qui abbiamo detto vabbè ma rivediamo queste immagini le dirò una cosa che ho scoperto mi dica che lei è un ospite molto gettonato diciamo noi in Italia no 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 non in Italia io ho visto almeno due trasmissioni francesi una con Thierry Ardisson che è un grandissimo conduttore e poi un altro programma dove non era da solo con Thierry Ardisson ma un'altra trasmissione francese con altri ospiti e le faccio vedere quel frammento dopo intanto vediamo Tarak Benhamar e Silvio Berlusconi insieme ospiti degli studi di Nesma per l'appunto due anni fa due anni fa tu sei associato a Tarak Benhamar depuis 25 anni qu'est-ce che vuole dire exactement entre le due on ne può pas le dire on peut le dire on aime beaucoup l'autre moitié du ciel qui sono le dame non a part a part la boutade c'est le fait qu'on s'est trové dans le même métier on a fait le film ensemble on a eu la possibilité de nous échanger des expériences dans la production au-dessus de la fiction e infine on a mis un pied e una società moitié-moitié qui s'appelle Quinta e non a mai écrit un pacte entre noi on s'est donna la main la première fois e tutto ha marché depuis 25 anni e allora on è veramente dei amici con una amici profonda qui qui nous donne la possibilité de compter l'un sur l'autre e de nous pouvoir être sûr d'avoir quelqu'un qui si un de nous deux a besoin il est là à son côté votre numéro de téléphone j'avais une question importante mais c'est ce qui dit une question encore s'il vous plaît è un contributo che gira su internet su youtube il commento che avevo fatto a Lerner è che lui ha messo un dittatore Mubarak nel suo dialogo un dittatore Gheddafi un dittatore Ben Ali e in mezzo ha inserito questo come se Tarak Berlusconi e i tre dittatori ho detto stop questo il cinema lo faccio il montaggio io posso farti diventare diavolo o angelo con il montaggio tu lo sai è il tuo mestiere ho detto no Lerner tu devi essere sportivo devi anche spiegare cosa ha fatto Nesma il 30 dicembre sotto la dittatura di Ben Ali perché adesso siamo tutti diventati rivoluzionari in Tunisia ma il 30 dicembre la rete creata da Berlusconi e da me con l'accusa di essere amico con il dittatore Ben Ali ha fatto una trasmissione Balarò Matrix o niente di personale tunisino con 90 minuti l'unica tv che è andato fare le riprese nella zona dove c'era la protesta dove il giorno venisse fatto bruciare intervistando la madre la sorella i fratelli la popolazione che ci ha accolto piangendo che non hanno visto una macchina da presa mai che li sentiva la loro umiliazione e dignità in studio il diritto dell'uomo l'opposizione i giornalisti che non hanno parlato da più di 20 anni e infatti 8 minuti dentro alla trasmissione mi chiama Ben Ali e mi minaccia che questo è un tradimento lei si sbaglia presidente questo è libertà questo è democrazia lei si deve abituare all'inizio fa male poi li passa il giorno dopo ho ricevuto la polizia una lettera con una minaccia di chiudere la tv se continuiamo a fare la politica ho detto a Lerner lei non può far vedere che Nesma è dei dittatori lei deve dire il vero recente quello di due anni fa è talmente vero che la mia tv che non pretendo sia la mia abbiamo 300 giovane donne e ragazzi sotto i 25 anni che rischiavano la galera e il posto di lavoro il merito è tutto loro dei giornalisti e il sottoscritto di aver resistito alla minaccia di Ben Ali Ben Ali ha cercato Berlusconi lui ho detto non prenderlo al telefono perché lui cercherà di fare pressione su di te dunque su di me e pressione non li accetto perché io vengo da una famiglia che ha avuto l'indipendenza dei francesi sono un patriota penso che il mio popolo ha bisogno di essere informato penso che non se ne può più anche perché Ben Ali parlava di libertà e di democrazia quando stava con me ma era come Jacqueline mi so hide appena usciva ridiventava il dittatore questo era il commento che ho detto a Lerner e infatti la mia tv ho detto a Lerner è stata scelta da Hillary Clinton come l'unica tv araba mai Hillary Clinton ha dato un'intervista né al Gezira né in Egitto dove stava un giorno prima certamente non sono io a dire a Hillary vai là lei ha scelto Nesma perché hanno considerato che era l'unica tv nella storia del mondo arabo aver criticato un regime durante la presenza di un dittatore non il giorno dopo e così è nata l'intervista di Hillary Clinton possiamo vedere per cortesia prima di andare in pubblicità facciamo in tempo il contributo l'altro contributo dalla tv francese che credo abbiamo sottotitolato questo è l'intervista a Corriere della Sera di cui parliamo fra poco l'altro contributo dalla tv francese grazie carac benhamar Antonio Banderas vous repartez à Tunis ce soir vous avez 30 secondes pour une conclusion je vais vous décevoir le peuple tunisien va réussir sa démocratie sa liberté sans les conseils des politiques français ou étrangers et sans en effet tous les articles de journaux sur la dictature de Ben Ali ça veut dire que les peuples tout seuls et attention vous étrangers arrêtez de nous donner des conseils parce que c'est un vieux réflexe et les français sont des spécialistes donneurs de leçons et Antonio peut vous dire pas d'ingérence on est mûr on est éduqué on est civilisé et la preuve on l'a renvoyé sans votre aide y compris vous monsieur le journaliste qui en effet a beaucoup écrit contre Ben Ali faire son travail ça n'est pas s'ingéré monsieur ah si parce que c'est donneur de leçons vu par le peuple tunisien Antonio peut vous dire son opinion en tant qu'espagnol chacun son boulot chacun son boulot a ciascuno il suo no è un vecchio difetto dei francesi di dare lezioni al mondo intero anche gli inglesi nei confronti degli italiani ogni tanto si qualche giornale inglese si proprio questa cosa di dire agli italiani per Prodi come per Berlusconi non mi ricordo la copertina dell'economist su Berlusconi è inadatto a governare si ma l'hanno detto per Prodi anche si e poi quando il governo provi hanno attaccato anche Prodi il discorso è terribile questo è il vecchio riflesso colonialista degli inglesi come se fosse una razza superiore a voi tipo gli elettori italiani che hanno votato Prodi o Berlusconi no loro non sanno saranno un po' sottosviluppati noi inglesi sappiamo meglio per voi popolo chi deve essere il vostro capo questo è terribile e un po' i francesi anche con noi e noi sappiamo che Ben Ali va bene per voi o Gheddafi va bene perché voi voi arabi non siete così democratici ci vuole un dittatore perché altrimenti sarebbe tutti fondamentalisti sarete tutti fanatici che bella lezione le giovani donne e giovani ragazzi nelle strade ho ripetuto non io ma loro senza bandiera verde senza come si dice giù con l'occidente giù con Israele né guerra santa né i barboni né le donne velato hanno chiesto tre cose nell'ordine libertà dignità lavoro hanno messo lavoro in terza posizione questa è la bellezza di questa gioventù dunque io oggi ho una grande speranza perché da quando i tunisini hanno fatto questo e poi gli egiziani e spero altri essere arabo è una cosa bella prima dopo l'11 settembre essere arabo e musulmano chiedete ai giovani vu comprare chiedete ai migrati come sono trattati o come sentono di essere trattati nelle province di Parigi o delle altre città oggi essere arabo è una cosa orgogliosa e questo è fantastico subito dopo la pubblicità chiudiamo sulle vicende dei salotti buoni della finanza italiana grazie dottor Benammar vuole ricordarci in quali consigli di amministrazione di società di grandi società italiane lei siede in quali consigli Mediobanca e Telecom Italia possiamo far vedere al dottor Benammar ma anche ai telespettatori in studio a casa e agli ospiti in studio per cortesia una fotografia diciamo così del cosiddetto capitalismo di relazione italiano perché in Italia i grandi gruppi si partecipano fra di loro adesso non mi chiedete di raccontarvi esattamente questo groviglio intricato ma si vede insomma che Mediobanca è nella Rizzoli Corriere della Sera ma sta anche in Generali la quale Generali sta dentro la Rizzoli Corriere della Sera che controlla il Corriere della Sera però Mediobanca a sua volta ha una serie di soci importanti che sono poi soci anche magari in Generali e che comunque intervengono a diversi livelli in tutta una serie di società che sono controllati o controllanti all'interno di quello che viene chiamato il salotto buono della finanza dove i soggetti grossomodo sono sempre quelli allora io adesso non voglio entrare in tecnicismi no no ma non ho mai amato la definizione del salotto buono si intanto cosa fa l'arabo nel salotto buono il sottoscritto primo punto vuol dire che non è così giusto dire buono o non buono si questo allora scusi ha ragione domanda corretta ho sbagliato io lei chi rappresenta nei consigli di amministrazione di Mediobanca e di Telecom allora intanto un consigliere rappresenta se stesso la responsabilità di un individuo in una società quotata in borsa deve rispondere a se stesso la legge lo dice vuol dire che se non fa il suo lavoro c'è anche il problema penale a parte civile ma io sono stato portato non essendo un banchiere non essendo un finanziere anche se adesso mi definiscono così sono un produttore e un uomo di cinema e di televisione mi è stato portato in Mediobanca dall'amico francese Vincent Bolloré che è un grande imprenditore lui finanziere che mi aveva chiesto di dargli un consiglio su come si lavora in Italia l'Italia essendo il primo paese che mi ha accolto all'età di 7 anni la prima lingua al di fuori dell'arabo e del francese che io ho imparato perché mio padre era il primo ambasciatore di questo piccolo paese nel 57 in Italia conoscevo e amo l'Italia e ho detto a Vincent Bolloré ti dirò come agire con rispetto delle leggi italiane ma soprattutto con la mentalità della cultura italiana e così sono entrato in Mediobanca e poi Mediobanca mi ha mandato perché un po' sulla telefonia mi intendo e sulla televisione a rappresentare Mediobanca in Telecom Italia che è il nostro azionista cioè l'azionista che controlla Telecom Italia Media che è l'editore di questa televisione la faccio breve per il grande pubblico e anche per lei sui giornali ultimamente cosa insolita anche per un paese come l'Italia in cui sui giornali ci si racconta tutto e il contrario di tutto grandi protagonisti della finanza e dell'impresa hanno cominciato a scambiarsi colpi diciamo così piuttosto violenti anche a livello verbale si sono usate espressioni che di solito non si erano mai sentite fuori soprattutto dal cosiddetto board cioè fuori dalle riunioni di consigli di amministrazione cioè normalmente certi scambi di vedute molto polemici o vivaci si fanno nel consiglio nelle ultime settimane queste cose sono uscite allo scoperto vuoi sul fronte Rizzoli Corriere della Sera vuoi sul fronte Mediobanca in qualche modo vuoi soprattutto sul fronte generali protagonisti lo dico per i telespettatori che magari non hanno seguito in maniera analitica questa vicenda da una parte un grande imprenditore Diego Della Valle che ha costruito un suo impero fondato sulle calzature e poi ha allargato i suoi interessi e dall'altra colui che è stato da Della Valle definito in realtà all'inizio hanno due gli arzilli vecchietti cioè Giovanni Bazzoli da una parte banchiere e Cesare Geronzi ex banchiere adesso presidente delle generali è rimasto solo Geronzi l'arzillo vecchietto che dovrebbe pensare alla pensione e da ultimo dopo un'intervista di Vincent Bolloré di cui lei ci ha appena ricordato essere posso usare questa espressione il suo sponsor perfetto al Corriere della Sera in cui parlava dei suoi rapporti con generali essendo Bolloré in generali lui si è astenuto sul bilancio questo ha suscitato con l'intervista un altro vespaio di polemiche tant'è che Della Valle ha detto Bolloré e Geronzi tengano giù le mani in sostanza dalle generali lei è stato coinvolto perché prima dell'intervista di Bolloré c'è stata la sua intervista che adesso possiamo far vedere a tutto schermo al Corriere della Sera mi dice cosa sta succedendo e soprattutto quali sono i termini della questione perché Della Valle dice una cosa su cui posso dire è difficile non essere d'accordo dice gli imprenditori quelli come me che vendono scarpe o che fanno automobili o vendono pneumatici o quant'altro lavorano investono soldi propri fanno il fatturato e poi con gli utili investono in altre società i banchieri amministrano soldi che non sono loro sono i soldi degli azionisti sono i soldi degli risparmiatori gli imprenditori dovrebbero contare di più e i banchieri forse un po' meno sto riassumendo in maniera estremamente liquidatoria però ci siamo capiti prego Della Valle ha detto una cosa ovvia chi non può essere d'accordo con questo ovviamente ma ritorniamo al dunque lei ha detto una cosa che questa polemica magari ho detto delle cose sbagliate mi corregga no no sarò rapido per non annoiare il pubblico non doveva uscire dal consiglio d'amministrazione le discussioni in famiglia questo è un consiglio la riservatezza delle discussioni poi società cotata in borsa il dovere dei consiglieri è di dire al mercato tutto quello che avviene alla luce del solo e con i soldi dei terzi perché questo è una bacca cotata come mediobanca e un'assicurazione come generale è stato Diego Della Valle io penso infelicemente 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 Diego Della Valle è un uomo di grande classe che vende il lusso in età all'estero rappresenta il made in Italy ha avuto il coraggio di finanziare il colosseo tanto di capello io lo rispetto e trovo quello che lui ha detto sul capitalismo che dovrebbe cambiare il capitalismo abbastanza giusto ma dichiarare perché un uomo non ha la sua età anche lui un giorno lo avrà che il signor Bazzoli o il signor Geronzi sono dei vecchietti Arzilli non è elegante e io dico a Della Valle non è elegante perché nel mio paese il presidente della repubblica e il primo ministro stanno salvando la Tunisia hanno 82 anni e 84 anni dunque l'età non è l'anno della nascita ma la tessa dunque questo l'ho trovata lui che è un uomo così elegante nella sua vita e come si veste non doveva fare quel commento io gli ho risposto esattamente questo non attaccare le persone e ho soltanto detto a Della Valle e al Corriere penso che sarebbe meglio visto che lui non è azionista delle generali è azionista del Corriere dunque lui ha parlato è il suo diritto parlare del Corriere io no perché non sono né azionista né amministratore lui può parlare delle generali perché è consigliere ma non ha messo un euro nelle generali io amministratore consigliere di Mediobanca devo difendere gli interessi di Mediobanca che ha e lei l'ha fatto vedere il 14% delle generali la metà dei utili dell'anno della Mediobanca viene dalle generali dunque di cosa stiamo parlando qua stiamo parlando della trasparenza e della corporate governance se non mi sbaglio il cittadino italiano e mondiale ha verso i banchieri uno sguardo da quando c'è stato il crash americano nel 2008 un po' tipo questi non ci fidiamo di questi signori guadagnano decine di milioni giocano con i nostri soldi io sono d'accordo che ci deve essere non essendo un banchiere sono d'accordo con il cittadino che ci deve essere trasparenza non possiamo più fra il salotto buono fare quello che vogliamo senza dire alla CONSOB a tutti gli istituti di vigilanza per quale in Italia esiste la comunicazione al cittadino che ha un'azione generale cosa ha fatto Bollorè Bollorè è arrivato nelle generali a settembre ha trovato che c'era una transazione di 5 miliardi e mezzo di euro all'est all'est nell'Europe dell'est ha chiesto di capire è il suo ruolo è il suo ruolo di difendere interessi di tutti gli azionisti non per avere potere non per fare un intralazzo ma per chiedere informazione alle generali l'hanno fatta diventare sulla stampa una guerra italo-francese stiamo scherzando la nationalità del consigliere non importa quello che importa è il dovere e l'obbligo del consigliere di difendere tutti gli azionisti e lui ha fatto questo e Diego della Valle e gli altri consiglieri dovevano dire grazie signor Bollorè di forse aprirci gli occhi su dossier che forse non abbiamo visto ma non litigare come se lui voleva e poi che umiliazione dire caro Bollorè lei è francese se lei crede di fare il prepotente da noi come se adesso il nazionalismo italiano si è svegliato nelle generali ma di cosa stiamo parlando questo non è un modo di fare tipo se lei non li va la compriamo lui è qua da dieci anni ha vissito più di un miliardo di euro sta aiutando l'economia italiana a essere trasparente se non mi sbaglio il cittadino non si fide di queste società ma vogliamo essere trasparenti e dire la verità in tutta la vita politica e economica così il risparmiatore crede alla borsa altrimenti cosa gli raccontiamo e oggi cos'è successo che il bilancio che per Bollorè poteva essere falso dico bene poteva l'hanno corretta alla richiesta della Consob che ha chiesto di cambiare quella riga nel bilancio dove quell'investimento nell'Europa dell'Est aveva non dichiarato che forse ci sarebbe di sicuro un rischio di 3 miliardi di euro questo non è il dovere del consigliere dunque caro della valle si legge le carte prima prima di insultare poi ha insultato lo sottoscritto gli ho risposto perché ho difeso Cesare Geronzi e lui ha detto che io ero il servitore che era servilismo gli ho risposto che non sono il servitore di nessuno e forse perché c'è un nome arabo lui mi ha preso per l'arabo di servizio ma siccome lui non è un razzista sono sicuro che non voleva intendere questo gli ho soltanto detto rifletti prima di parlare mi fa una promessa va ospite di Gadlerner all'infedele dipende del soggetto e io intanto andrò da Gadlerner ma se divento un pollaio di polemica non ci vado va bene grazie Atarak Benamar Mannheimer 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 grazie Benamar grazie 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 Arisa Espinoza è una puppy girl una poetessa cubana o un vice direttore di El Paese il giornale spagnolo Mannheimer non ne ho la minima idea credo che non sia una puppy girl potrebbe essere indifferentemente una potessa cubana non lo so salto sempre gli articoli di cronaca l'ultimo derby tra Roma e Lazio è finito 2 a 0 per la Roma 0 a 0 o partita interrotta per manifesta inferiorità dei biancazzurri Mannheimer dunque oltre a non seguire le puppy girl seguo molto poco il calcio e invento dunque 2 a 0 per la Roma bravo la capitale della Bolivia attento è Bogotà Cochabamba la passa questa è difficilissima o Bogotà o la passa Bogotà ma no la passa il ragamuffin è troppo difficile ma mi faccia il ragamuffin mi faccia finire è facile un dolcetto americano senta la parola ragamuffin una potente droga indiana un genere musicale dunque il muffin è un dolcetto americano quindi il ragamuffin muffin potrebbe essere dai su una droga quella che si è fumata lei Rubo Mannheimer la Repubblica Italiana fu proclamata il 18 giugno del 1946 il 2 giugno del 46 oppure il 25 aprile del 45 il 2 giugno del 46 il 18 giugno del 46 ah il referendum il 2 e la proclamazione già non avevo ascoltato bene la domanda sicuro di saperla vabbè Bjork è il nemico di Iron Man un sistema operativo open source di una cantante islandese dunque il sistema operativo non mi pare bravo Iron Man insomma dovrei chiedere al mio figlio proviamo con la cantante grande è statistica perché uno ogni tanto comunque qualunque risposta dai lo azzecchi nei nostri sondaggi fanno così i laureati che dicono di sapere qualunque cosa è lungo l'aneddoto e sbagliano tutto come me e uno ogni tanto però la z si giusi ferreri si è una marca di abbigliamento una conduttrice radiofonica una cantante pop Lugo Manheimer eh dica a Roma ci si considera con l'aglietto dica io conosco Giudi Ferreri non Giudi Ferreri facciamo una cantante pop bravo voi improvvisate e ce la farete dai e se posso fare un commento dica è lo stile italiano questo nostro in qualche modo ce la caviamo sempre e questo è il vantaggio verso altri paesi è così che abbiamo fatto questo paese purtroppo si è fatta l'Italia ma non si fanno gli italiani è una frase di Giuseppe Garibaldi Massimo D'Azzeglio Camillo Benso Conte di Cavour ma Neimer Cavour ma no Vito Catozzo ma come no Vito Catozzo dai era un martire della lotta alla mafia un pioniere dell'antropologia un personaggio del drive-in un personaggio del drive-in bravissimo questo è stato velocissimo vede chiudiamo in bellezza cos'è un foratino un foratino dai un tipo di mattone in gergo slang un tossicodipendente guarda quello come è foratino o un componente che si trova nei televisori mattone bravo una mattonata come questa intervista non c'è persona alla quale io dica citrosodina granulare bevo per dimenticare il mal di male e poi mi fanno un pezzo di Sergio Caputo ecco appunto allora perché sentire me che canto male sono pure stonato quando in un medley che ricomprende anche sabato italiano ma Garibaldi innamorato e non bevo più tequila Sergio Caputo è qui come direbbe Raffaello La Carrà grazie La Carrà è bellissima l'ha fatto molto bene nel mio piccolo un omaggio al centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia e il Garibaldi fissa il mare e tira un sorso di Lou che di Marsala che la vana non ne sbarcano più ripense fighe d'India della terra natia le notti calde giù a Bahia che malinconia e attacca banda e se una samba sia suonata da Dio c'è il Garibaldi innamorato per le strade e paesa fuoco a volo già che clamor passa il Garibaldi sui segni è conquistato il fetido cortile ricomincia a mi adolare il moretello il moretello tipico del sabato invernale la radio mi pugnala con il festival dei fiori un angelo al citofono ti dice vieni fuori giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi forosco forosco prognostica sviluppi decisivi noi guidiamo allegramente è quasi l'ora delle streghe c'è un'aria formidabile le stelle sono accese e sembra un sabato qualunque è un sabato italiano il peggio sembra essere passato la notte è dirigibile che ci porta via lontano ho visto i fiori a passire in un attimo e i miei stivali scappare sotto il tavolo ho visto l'ombra del combo di Notre Dame e sette gattine c'è qualche cosa che non va tequila da quella che ho perduto con te non bevo più tequila da quella volta che ho perduto la luna piange cinese nel ridicolo si prende a scappi in francese ed è ridicolo ed è pieno gigante mi segue mi segue giù fin dentro i fari accesi di un'automobile a cucù tequila da quella da quella volta che ho perduto con te non bevo più tequila da quella volta che ho perduto te grazie giovedì e venerdì a Milano il 31 a Bologna esatto due domande e una promessa la prima domanda la promessa che le chiedo ovviamente di poi onorare la prima domanda è ma lei sta in Italia o sta negli Stati Uniti perché ogni tanto un piede di qua un piede di là un piede di qua San Francisco San Francisco ma torna in Italia perché ha nostalgia del nostro paese no torna in Italia perché è il mio paese è il mio il posto dove sono nato e quindi naturalmente te lo porti nel cuore gli italiani non vanno mai via dall'Italia anche quando passano tutte le vite all'estero perché se la portano dentro insomma nel 2008 lei ha scritto un libro disperatamente in ritardo cane che era un romanzo però certo autobiografico in gran parte in gran parte è il ritardo cane la gente l'ha comprato infatti mi raccomando l'importante è farlo senta come nasce la sua amicizia con Max Tortora glielo chiedo perché e qui le chiedo la promessa Max Tortora insieme con Enrico Bertolino prossimamente ci verranno a trovare perché sono una coppia comica fantastica che hanno girato insieme piloti che era stata una sitcom di grande successo so di questa sua amicizia con Tortora mi farebbe piacere se in quell'occasione tornasse anche lei sarebbe straordinario la cosa buffa è che io avendo passato appunto molti anni all'estero quando torno qua io non riconosco le persone che sono diventate famose mentre io ero via venne Max Tortora al mio concerto mi disse guarda quello è un attore famosissimo eccetera eccetera io non sapevo chi era come si chiama Max Tortora ciao Max Tortora da lì siamo diventati amici e facciamo anche delle grandi cene perché lui tra l'altro strimpella il pianoforte lui non strimpella il pianoforte grandissimo sta prendendo lezioni che potrebbe veramente venire in tour e fare molto meglio di me e canta i miei pezzi molto meglio di come li canto io allora promesso che torna insieme con loro? ci possiamo contare grazie a Sergio Caputo e adesso io vi faccio vedere quello che è successo una mattina nella trasmissione che aveva in onda alle 10 sulla 7 a Ipiroso cioè c'è stato un piccolo incidente di percorso io ve lo ripropongo ma ve lo ripropongo in questa doppia versione cioè vi faccio vedere l'incidente di percorso poi vi faccio vedere il giorno in cui abbiamo commentato questo incidente di percorso e mentre commentavamo l'incidente di percorso del giorno prima ne è successo un altro e quindi vale la pena non perdersi questa chicca grazie ogni tanto bisogna pensare anche anche alla morte lo sai perché insomma dall'eterno ragazzo all'eterno riposo è un attimo grazie Gianni Morandi molto carino Morandi avrà toccato un mazzo di chiavi altri Gianni Morandi sì che lei conosce no? sì benissimo è immortale è immortale è immortale Abate vuole dire una sapidezza ma io devo dire la verità sì che ultimamente non lo riconosco più perché durante la conferenza stampa c'erano le 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 ammazzato per le possibili battute che facevano Luca e Paolo sul bunga bunga a chi? le facevano ai giornalisti quindi non so alla conferenza stampa di Sanremo quindi non riesco a capire va bene la domanda è e quindi a questo punto come se ne esce? se ne esce perché non è più lui dieci questi gazzi scontenti ma io sto male ho avuto una notte tremenda e voi infierite su malatino non è giusto no chiedo scusa non sapevo se avessi avuto si alzi la palla non alzare la palla vabbè non alzare la palla come si sente in questo momento? addirittura così come disse no lo devo dire scusa no come disse a formia l'attore quello di nove settimane e mezzo andò a fare un incontro di box Mickey Rourke lo vide un giovane barista i giornalisti chiesero come sta? rispose sta arrovanato forte di che cosa stiamo discutendo? è così sto io ma qui ridono tutti il cavaliere divide pannella mi mandate un contributo di pannella grazie ragazzi ci cacciano a tutti oddio oddio scusate tre deficienti però detto con affetto e con rispetto il commento finale di panatta è preciso ci cacciano a tutti sì sì tanto forse ci spostano però intanto come? ci spostano no 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 come no l'azienda fa quello che vuole l'azienda ha il senso noi noi io ritengo che sia una boiata pazzesca siamo in onda ma è entrato in onda ma sei impazzito? ma sei scusate no ma ormai questa non è una trasmissione televisiva cioè ma sei impazzito? ma siamo in onda ma io sono irritato Max è entrato no benvenuto ad Adriano Panatta benvenuto a Fulvio Abate vediamo se funziona benvenuto a Cecinelli buongiorno dalla Bretagna dalla Pragna perfetto così abbiamo dato l'imprinting grazie di esserci venuti a trovare ma grazie a lei di averci accolti su queste scomodissime poltroncine su questi trespoli questi cazzi cominciamo bene? cominciamo bene? lei vuole dire qualcosa di carino? meglio no allora aspettiamo un attimo beh allora pavido 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 esbaki eh? esbaki allora scusate questa è una trasmissione serie ecco vi vorrei ricordare vi vorrei ricordare che questo è un programma di prima serata anzi di tarda nottata perché come al solito sforo in maniera indecorosa quindi vi vorrei invitare entrambi ad avere un contegno sì ci proviamo come sembriamo come lo vede Abade stasera che siamo in prima serata guardi stasera merdo come? lei però è serio perché questa prima serata è serio ma si è preso voglio sapere è nervoso è teso? ma no per niente sono molto infastidito dalla scomodità della sedia domande cosa ha mangiato oggi a pranzo no domande domande cosa ha mangiato oggi a pranzo mi sembra irrilevante rispetto ai problemi che ha il paese comunque dei rigattoni con la pagliata questi gazzi ho capito però non è che adesso ogni cosa che dice possiamo continuare così? no 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 posso chiedere io non vorrei violare la sua privacy però prima di stasera sapevo che era un po' nervoso voglio sapere ha preso non sono nervoso ma ha preso sono esaurito ma quello è un altro problema prende le medicine per non comprimerci sempre fra noi tre diciamo così perché ormai siamo conosciuti dalla mattina ma io volevo soprattutto che Panatta e Abate che affettuosamente noi abbiamo ribattezzato il duo Monnezza attenzione questa mia non l'accetto perché se noi siamo il duo Monnezza e non l'accetto perché non lo dica più lei è il Monnezzaro vabbè ma è affettuoso due Lescano duo Lescano ma non era il trio Lescano infatti ah con me ah giusto il trio Lescano il duo Fasano se vogliamo essere precisi sì quando si esibiva il duo Fasano? parliamo degli anni del duo Fasano credo siano andati fino agli anni 50 sì composto da quante persone? il duo Fasano era composto da quattro persone sì come dice la parola stessa dove si esibiva il duo Fasano? via delle botteghe oscure lei che si trovava a via delle botteghe oscure all'epoca la radio fascista era la via botteghe oscure? esattamente aveva anche la sede in via a Siago però anche in via delle botteghe oscure va bene così credo possa passare come sfoggio di cultura sì va bene allora tutto questo mi sto avvalendo della presenza di Panatte e di Abbate che ringrazio di essere qui perché l'ospite di questo segmento grazie a Dio lo incentivisce con la sua presenza fisica ma soprattutto con la sua grande capacità artistica dire comica è quasi riduttivo non c'è niente di male secondo me essere dei bravi comici perché far ridere è un grandissimo dono e richiede un grande mestiere però non è soltanto quello perché secondo me in questo caso oltre alla comicità c'è la capacità di essere una brava imitatrice quindi una brava attrice sto parlando di Virginia Raffaele buonasera 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 che è in trasferta perché normalmente la domenica dove a Milano a fare quelli che in calcio ma guarda un po' ma guarda un po' con qua allora Virginia Raffaele detta vista così non dice quasi niente grazie comunque grazie no ma noi siamo vecchi amici veramente no 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 fermi abbiamo fatto molte delle missioni insieme tipo? come si chiama quell'anziano cantante ma quello che è stato a Sanremo e non è arrivato neanche fra i primi dieci credo Barbarossa no che dice che mi batte a tennis dice ma lui dice ah già a Radio 2 esatto con Luca Barbarossa quando? il weekend quando? sabato e domenica vero? sono tutto io posso parlare io io vi ringrazio però possiamo avendo la voce se scorre signori se scorre ecco si vabbè se scorre quando va in onda il programma di radio? va in onda il sabato e la domenica dalle 11 a mezzogiorno e mezza oh su Radio 2 su Radio 2 è qui dicevo che magari qualcuno si è abituato alle imitazioni di Virginia Raffaele solo negli ultimi tempi ma in realtà io vorrei ripescare un personaggio che a me faceva molto ridere ignoravo fosse lei fino a quando non l'ho scoperto leggendo le sue note biografiche abbiamo subito preso un contributo dell'epoca le dice niente il grande fratello Raffaele? si qualcosa mi dice vogliamo vedere Virginia Raffaele Raffaele sotto mentite spoglie in quell'occasione grazie ragazzi complessa io leggo molto per esempio mi piace studiare io alle volte sono la ragazza che so spigliata e allegra e altre volte sono l'intellettuale di turbo è bene indicare i due tipi di ragazza ragazzi davanti a voi ci sono due cristine vi darci un altro argomento di conversazione a me faceva molto ridere di questa imitazione poi andiamo in pausa perché abbiamo altri contributi il fatto che a un certo punto i tre banditi della Jalapas le dicevano lei che succede sta riflettendo e poi c'era e si sentiva e c'era il vento nella scatola cranica di questa donna comunque complimenti perché facendo vedere altre maschere sue faremo vedere come è capace di calarsi nei panni di Eleonora Brigliadori della criminologa Abruzzone e altro con estrema facilità subito dopo la pubblicità grazie bene in compagnia di Virginia Raffaele che ha la sua destra e la sua sinistra Adriano Panatta e Fulvio Abate i suoi compagni e voi con noi non c'entrate nulla voi con noi non c'entrate nulla questo era Enrico Letta durante le proteste anche il ritmo di parla chi c'è la jingle machine vabbè ci sarà qualcuno della redazione mi sembra poco no ho capito pure Berlusconi un attimo Virginia Raffaele che cosa che sensazioni le regala il fatto di essere seduta a una vecchia gloria del tennis del secolo scorso come Adriano Panatta c'hai un po' di problemi c'hai qualcosa ho visto tossire prima tossivo no no sto bene sto bene no è che Panatta se non gli faccio la voce meccanica Panatta non è contenta e faccia la voce meccanica che ha per Panatta in diretta in modo in un altro faccia la voce siamo fatta l'abbiamo fatta non si è sentita 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 no prego non l'ho sentita non l'ho sentita non l'ho sentita di chi il codice Bancomat di Adriano Panatta è 9 dato il tuo codice di Bancomat sì vabbè quello vero quello vero come è quando volete un tè dei pasticcini noi a Bate andiamo a fare un giro sul raccordo anulare è un po' permaloso no ma non sono permaloso non è permaloso volevo chiedere come faceva a realizzare questo effetto vocale un giorno l'ha scoperto lo so nel senso che un giorno mentre ero al telefono in attesa questi numeri verdi il call center no? a tutti è capitato no? a tutti è capitato grazie a tutti è capitato di ascoltare attendere prendere prego attendere prendere prendere allora ascoltandolo tanto l'ho riprodotto sono contento lei invece il castigliano o lo spagnolo che dir si voglia lo ha studiato bene l'ho studiato l'ho sentito con sé per sentito dire la vogliamo vedere chiaro se avete Pedro Leon vabbè questo è Murigno ormai siamo impazziti non si riesce più a dare un ordine a questo segmento finale del programma possiamo vedere un momento di talk club con Lillo e Greg per cortesia da coppie dello spettacolo quale ormai siete voi all'altra coppia che ha un ospite vediamo bene benvenuti tutti ad una nuova puntata di talk club oggi abbiamo due ospiti d'eccezione abbiamo la nostra showgirl Consuelo Pestada e il professor Gianluca Barelli presidente di un'associazione contro la fame nel mondo professore quando è nata la sua associazione è circa 20 anni fa sì praticamente con la realizzazione della prima missione che ci siamo prefissi ormai appunto più di 20 anni fa la costruzione di una grossa azienda agricola Cammanze in India seguita da un orfanotrofio a Munugodu ecco io sai che c'ho avuto un amante indiano tantissimo tempo fa però era molto fantasioso molto passionale e facciamo l'amore dappertutto perché mi soddisfava no? io sono molto passionale ovviamente quando si incontra la persona giusta sì era molto veramente lì scatta tutto bene ma c'è una telefonata in linea pronto? Luigi da Roma bene Luigi cosa vuoi chiedere al professore? niente volevo invece chiedere a Consuelo attualmente fidanzata attualmente no 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 non sono fidanzata no sono libera libera per tutti e per tutto mi piacerebbe stare una persona come una persona molto simpatica che magari presenta programma stiamo cercando anche di mettere degli ospedali professore lei prima non è stata interrotta dalla signorina dopo cortesia la fa parlare e che adesso con la barbettina e tu sei molto 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 simpatica grazie qui tu nasce quanto è addosso professore non so perché ma abbate panato non avete l'impressione di aver visto quel soggetto anche ad esempio all'ultimo festival di Sanremo assolutamente sì ma io non ho sentito nulla del sonoro perché è sordo sono sordo però ho intuito insomma quindi chi le ha ricordato Virginia Raffaele in quella imitazione o in quella interpretazione meglio mi ha mi ha ricordato diciamo una tipologia di donna molto Belen Rodriguez dai ma Belen Rodriguez complimenti panata diceva tanto non lo sa non lo sa avevamo il sospetto però che forse in una versione turbo diciamo così una versione turbo turbo tumi turbi ah tumi turbi nel senso quindi a questo punto come se ne esci un attimo di Pietro Raffaele Belen l'ha vista questa imitazione perché Belen non lo so però tempo fa proprio durante il festival di Sanremo mi ha telefonato in diretta a Chiambretti sì e abbiamo fatto uno scherzo a Fabrizio Corona perché l'abbiamo chiamato e niente io gli ho risposto dicendo Fabrizio pronto dove sei e lui c'è avuto Belen Fabrizio mi senti ma no c'è stato un attimo hai spento il gas a casa quando ho detto hai spento il gas a casa diciamo che lui ha fatto il gas manco ce l'avranno il gas a casa loro due no non ce l'hanno più gli avranno tagliato la bolletta ecco appunto e poi ho detto amore e suo amore lui ha detto no noi non ci chiamiamo amore si è tradito però c'era cascato in pieno veramente avete scoperto come si chiamano in privato Corona e Belen no amore amore sicuramente una delle protagoniste dell'isola dei famosi quest'anno è sicuramente l'onora brigliadori mi pare la quale anni fa divenne celebre perché a un certo punto sosteneva l'opportunità anche di nutrirsi mi faccia trovare è una pratica non ho detto nulla non ho detto nulla è una pratica indiana quale questa del posso esprimermi sì prego di bere la propria la propria di bere la propria deve essere la propria vabbè ho capito sì vogliamo vogliamo vedere questo da un'altra da un altro no perché di primissima mattina adesso io voglio specificare questa cosa ragazzi su dai ma no vogliamo no mi faccio dire il termine esatto scientifico di questa pratica amaroli non è una battuta sì amaroli si chiama esattamente così una trasmissione disgustosa ha ragione basta la volta che c'è ragione sto prendendo una conduzione spreggevole turpe ripugnante grazie possiamo vedere questo ma che applaudite pure applaudono pure a venire via da questo incredibile postripolo televisivo ma chi gliel'ha detto a lei vabbè mi fate vedere la brigliatori per cortesia così usciamo da questa unpass ah Caio Paloma è abitata da 225 anni e già c'era Simona Ventura no sì no ma con chi parli Eleonora con l'albero Simona con l'albero mi sta raccontando la storia dell'isola qui tutto parla tutto parla tutto respira lo sai e sai cosa mi dice cosa eliminate Luca di Lisio ma no sarà ma come scusa ma davvero senti che l'isola parla sì ah sento tutto parla anche i sassi parlano vieni guarda tutto parla i sassi io interpreto il loro linguaggio è facile interpretare il linguaggio dei sassi lo sai com'è com'è te lo spiego io questo lo metto qui questo lo metto qui sasso vince e sasso perde uno l'oggetto eh lo divido per la mia data di nascita ci metto anche il codice fiscale e ne resta uno e lo sai cosa mi dice questo sasso cosa eliminate Luca di Lisio tu che sei vegetariana purissima no sì come fai cosa mangi sull'isola ah io sull'isola mangio delle alghe delle alghe con un pizzico di sabbia e una spruzzata di acqua di luce eccola hai detto anche durante la puntata ma cos'è questa l'acqua di luce è acqua che esce purificata da me no sì vedete ma no sì oggi ce n'ho poca perché non ho bevuto abbastanza volete favorire salute a posto così grazie vado a baciare Luca di Lisio adesso no ma c'è credo un aliason affettuosa tra Virginia e Raffaele e Panatta credo di sì no cosa dice ma no affettuosa ma molto affettuosa ma non ho detto ma lei subito vede la malizia dove malizia non c'è me la dico in cinese non dica più latte esatto lei vede il delitto no lei vede lei vede il reato no lei vede e il delitto dove non c'è il delitto lo vedo ma quale delitto quelli su cui indaga la nota criminologa la dottoressa Bruzzone prego abbiamo praticamente chiuso che bravo che sei Panatta grande siamo sempre in onda credo Agnese Pallotta abitava il terzo piano interno 3G già questo al secondo piano abitava una bella signora e questo lei non l'ha mai accettato proprio per questo Agnese Pallotta a tutte le ore del giorno e della notte spostava inutilmente i suoi mobili da quattro soldi un giorno stanca di quei rumori la bella signora decide di far valere le sue ragioni sale le scale con estrema sensualità arriva al terzo piano per chiedere con gentilezza ma con onestà con garbo ma con fermezza né troppo né troppo poco perché poi è un attimo che passi dalla parte del torto perché non è che qui stiamo a fare tutte le quanti le cose perché sul contratto c'è scritto che io all'assemblea vado non è che sto qui a improvvisare a fare delle cose mia madre me l'aveva detto tre anni fa Agnese Pallotta apre la porta e quella bella signora sente puzza di broccoletti la Pallotta si difende non è lei che sposta i mobili non è lei che provoca quel frastuono non è lei Agnese Pallotta ho parlato tutto il tempo con la sorella Franca Pallotta ma non è questo il punto in quella casa abita Satana è di cognome fa Pallotta Franca e Agnese Pallotta ricordatevi voi rimarrete sempre due inculini insulsi in una casa terrificante mentre a vivere nell'attico della vita c'è Roberta Bruzzone che sta in televisione brava brava siamo in chiusura perché devo dare la linea al telegiornale che ci segue subito Raffaele una galleria di personaggi devo dire e glielo dico senza alcuna piageria impressionante perché la chiamano Raffaele? Virginia è un po' uomo 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 perché la chiama perché la chiama Raffaele? uomo o donna uomo o donna sono del sollente un uomo o una donna un uomo o una donna sì va bene ci dice due cose in un flash primo come nascono i personaggi cioè li sceglie studiandoli per lungo tempo li guarda in tv capisce che immediatamente c'è un aspetto che può essere sottolineato oppure oppure boh come direbbe Roberta Bruzzone no in realtà ci sono alcuni personaggi che vengono da te che passano in televisione e tu dici cacchio quel personaggio lì secondo me funzia sì funziona e quindi è un po' io a metà strada arrivo io e poi a metà strada arriva il personaggio se non è su commissione ovviamente e poi sì c'è uno studio sicuramente dettagliato guardando e riguardando le movenze il timbro di voce il colore i vari tic che un personaggio ha sì prossima vittima prossima vittima è in preparazione o chi le piacerebbe beh c'è trucchi speciali di Biaggi Bruno Biaggi molto molto consistenti ecco e sì forse Belen insomma Belen mi piacerebbe portarla sugli schermi vuole essere accompagnata nella sua futura avventura professionale da panatta e abate glieli cediamo volentieri addirittura? ma non so se panatta e abate però sono d'accordo no io no i boys i boys bravo facciamo i boys bravo dobbiamo fare una prova in piedi prego in piedi sì così con i boys come i boys i boys i boys che boy sono sito ancora se ci avessi pensato prima eh allora vai dai no sollevatela ma no vabbè ho capito ma non avete alcun talento non avete alcun ce la sciatica una donna che tristezza grazie a Virginia Raffaele e complimenti davvero grazie a Fulvio Abate grazie a Adriano Panatta ci vediamo domani mattina alle 10 e poi martedì prossimo buonanotte grazie a tutti